Eccoci, ricominciamo i lavori interrotti a mezzo alla luna di La Verità, questa terza sessione presieduta dal dottor Aldo Carosi, giudice della Corte Costituzionale, nonché vicepresidente della Corte. Questa sessione è onorata dai giudici della Corte dei Conti di Trent e Bolzano. Quindi vi chiedo di fare un applauso a queste persone che sono qui, perché sono i tutori di un istituto che noi stiamo discutendo da tempo, che abbiamo cercato di decolonizzare dal peso della pubblica amministrazione. Quindi siamo felicissimi che voi siate qui, sappiate perché siamo costretti a dire aiutateci a decolonizzare la proprietà collettiva. La Presidenza è autorevole e non ha bisogno di ulteriori presentazioni perché voi lo riconoscete da tempo. Io mi ritengo da parte mia un amico del vicepresidente della Corte perché dal 94 che noi ci siamo incontrati sugli stessi interessi scientifici e tecnici. quindi io cedo la parola al dottor Carosi, augurandovi voi di ascoltare attentamente quanto da questa parte del tavolo vi verrà detto. Grazie. Anche se può sembrare una captatio benevolentia o una restituzione dei complimenti eccessivi, io credo veramente che Pietro Nervi sia il motore di tutte queste iniziative e la premiazione simbolica che ha ricevuto questa mattina non è altro che un oggettivo riconoscimento a quello che lui ha fatto per dare ad una materia che esiste, come ci ha dimostrato 40 anni fa il professor Grossi, ma che sta nelle nebbie di tante situazioni ai confini, diciamo, dello sconosciuto. Questo oggi abbiamo inteso sulla Norvegia l'attuale incertezza sia dal punto di vista catastale che giuridico della stessa estensione ed esistenza di questi possedimenti. Dicevo, istituti che ripetono la loro struttura di base e le loro caratteristiche, ma in incognito l'uno o l'altro. Nervi sono 25 anni che li mette in comunicazione e ogni anno devo dire che chi come me è sempre interessato dalla materia impara delle cose nuove, cose nuove che sì sono coerenti con lo schema che ci siamo dati, ma che effettivamente arricchiscono quella base sulla quale poi l'interprete, lo studioso, deve riflettere per verificare se i paradigmi tradizionali sono giusti e se possono eventualmente essere sostituiti con altri. E ovviamente non posso che salutare quest'uditorio di cui ormai sono un abitué, perché avete la gentilezza di invitarmi tutti gli anni e quindi per me è come un ritorno in famiglia in una città che mi è particolarmente cara, perché ha segnato la mia iniziazione in termini di magistratura. Ecco, è un'iniziativa che è finalizzata sempre a rivisitare i paradigmi disciplinari inerenti al regime delle terre collettive e l'approfondimento delle più recenti novità normative e giurisprudenziali per verificare se il tradizionale assetto di tali patrimoni, quello dato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia ancora adeguato ai tempi. Ecco, io mi voglio consentire, l'ho già accennato anche al professor Pagliari che oggi pomeriggio non è con noi, che voglio dare una lettura della legge 168 non in rottura con i precedenti, ma in continuità con i precedenti, per tutta una serie di questioni che si possono riassumere col fatto che in termini metaforici gli usi civici o i domini collettivi rappresentano la biodiversità giuridica, culturale e culturale di un diverso modo di relazionarsi con la terra. E quindi io credo che dovremmo partire, poi magari cerchiamo di ragionarci, dovremmo partire dall'assunto che questa particolare disciplina ha origini storiche sicuramente, ma probabilmente anche preistoriche per tutta una serie di ragioni che più volte vengono fatte presenti nelle ricche relazioni e che hanno proprio il carattere di non essere condomini nel senso romanistico del termine. Ecco la cosa che io mi sentirei un po' di rettificare rispetto alla relazione di Pagliari. Il fatto che la materia sia regolata in termini di ordinamento civile non vuol dire che quella dei domini collettivi o degli usi civici sia proprietà condominiale privata. È proprietà condominiale collettiva secondo un modello che non è il modello del diritto quiritario, ma è il modello di utilizzazione, uso il termine tecnico necessariamente, con riguardo al rapporto di incolato con i beni. Cioè è questo il carattere comune degli usi civici, dei domini collettivi e nella parola domini collettivi, solo oggi ne abbiamo avuto la riprova, abbiamo delle situazioni estremamente diverse. La cosa che si può dire che hanno in comune è proprio il rapporto di incolato col territorio. Rapporto di incolato col territorio che per la geniale intuizione di un giurista che scrisse la norma del decreto Galasso, che ho avuto la fortuna di conoscere l'avvocato Guido Cervati, fu trasfusa appunto nel decreto Galasso con la terminologia usi civici, che non è la terminologia tecnica e specificante del termine usi civici, ma è la terminologia che riguarda una grande varietà di istituti che sono appunto caratterizzati da questo rapporto. Cioè all'improvviso dal decreto Galasso poi al codice dei beni culturali si scopre che queste terre, ma soprattutto il regime giuridico che ha in comune uno sfruttamento non intensivo, non predatorio del territorio, diventa un referente per la tutela e la conservazione del territorio, che non significa ovviamente conservazione statica, ma significa conservare quel carattere naturalistico e sicuramente non disfruttamento intensivo che deve riguardare la natura. E in questo senso la parola molto bella che è scritta nella legge 168 è proprio quella di condominio intergenerazionale, cioè sono dei beni che devono essere trasmessi tra le generazioni e per essere trasmessi non devono essere distrutti da un'utilizzazione predatoria. Una volta ricordo che c'era la famosa pratica della rotazione culturale col periodo di riposo che veniva dato alla famosa magese, che veniva data per un anno ai territori che venivano poi alternati proprio perché si riteneva che la monoculturalità, quindi lo sfruttamento intensivo, poi li portasse piano piano a scomparire. Ecco, diciamo che a un certo momento se ne impadronisce il legislatore col decreto galasso che poi viene trasfuso nel codice dei beni culturali. Ho un'altra notazione, ho qui testimone diretto il presidente Merito Grossi. In realtà l'ordinamento civile compare in una causa di quando tra l'altro Grossi non era forse nemmeno più presidente, per una questione rinviata da un commissario agli usi civici, ma prima i parametri con la quale avevamo accolto le questioni erano quelli della tutela paesistico-ambientale. Quindi la sentenza che viene distribuita a voi non è in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nemmeno con una sentenza della Cassazione Penale uscita cinque giorni dopo, nella parte in cui ci dice che i domini collettivi sarebbero sottoposti soltanto alla Costituzione. No, i domini collettivi sono sottoposti anche alla tutela paesistico-ambientale di cui si parla nelle sentenze, coraggio per intendersi, e carosi che hanno riguardato le fattispecie della Sardegna. E quindi, ecco, questo è molto importante perché non dovrebbe passare l'idea che un uso o un diritto consolidato dal tempo, dal territorio, dalla storia e dalla cultura delle popolazioni locali sia disponibile a 360 gradi per le stesse popolazioni locali, così come invece è disponibile per un condominio, immaginate proprio al condominio di un immobile, il quale può tranquillamente, entro determinati limiti di ordine pubblico, stabilire qualsiasi regola sulla destinazione dei beni. Non è così per questo tipo di beni. Ecco, questo tipo di beni può essere, anzi deve essere aggiornato, come giustamente ha detto Pagliari questa mattina, ai tempi come gestione, ma deve essere una gestione coerente con quella del passato e non può sicuramente essere una gestione magari che sceglie la situazione del lucro massimo in relazione alla destinazione del bene. Questo è importante perché potrebbe creare nel prossimo futuro parecchie problematiche. Quindi, ecco, partiamo dall'idea che questi beni sono sottoposti a tutela anche dallo Stato, non solo da parte delle collettività locali. Stato che a sua volta, come è stato correttamente detto e come dice la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve rispettare la vocazione dei beni. Diciamo che la legge 168, da un punto di vista dei principi, è un fortissimo rafforzamento di questo principio, che cioè ci sono dei diritti prestatuali, dei diritti intestati, incarnati, direbbe grossi, nelle popolazioni locali che in qualche modo devono comunque sopravvivere. Devono sopravvivere ma coerentemente con le modalità con cui sono nati. Ecco, questo io direi di tenerlo presente per evitare che poi si possa arrivare a delle ipotesi di utilizzazione speculativa in cui praticamente i soggetti titolari del potere di voto, chiamiamolo così, possano entrare in conflitto di interessi con la natura del bene. Abbiamo avuto l'esempio nella vicenda dell'Università Agraria di Valmontone. Che cosa è successo a Valmontone? A Valmontone il dominio collettivo si era espresso a favore della non sdemagnalizzazione del bene. Addirittura c'era una legge regionale che diceva che la natura demagnale del bene si estingueva contestualmente con il perfezionamento dell'abuso edilizio che vi era costruito sopra. E in questa situazione il dominio collettivo alias Università Agraria di Valmontone cosa aveva fatto? Aveva dato l'assenso perché gli occupatori abusivi lucrassero il terreno con un canone irrisorio di qualche euro. Chi è stato che uti singulus ha rivendicato il diritto? Erano dei soggetti locali che sono andati contro l'ente esponenziale del proprio diritto collettivo, sono ricorsi al commissario agli usi civici che a sua volta ha demandato la vicenda alla Corte Costituzionale che ha dichiarato in Costituzionale la legge regionale sulla base della quale l'abuso veniva legittimato. Ecco la dimostrazione, ecco il messaggio che io vi voglio mandare in profondità perché qui non siamo in una partita di calcio in cui si può dire dominio collettivo è bello, uso civico è recessivo eccetera. Qui siamo in un sistema che affonda le proprie radici nel tempo, che è stato ritenuto dallo Stato meritevole di tutela e che è stato ritenuto meritevole di tutela proprio tutelando quel regime giuridico e quella utilizzazione del territorio che è tipico delle comunità che ci sono cresciute e si sono succedute. Ripeto, non per un rapporto successorio come accade nel maso chiuso, ma per un rapporto d'incolato, cioè la stabilità dell'utilizzatore sul territorio che riguarda il bene collettivo. Sapete che una delle sentenze ha riguardato il maso chiuso ma lì la questione era diversa perché nel maso chiuso noi abbiamo dichiarato sopravvivere il profilo di tutela che non era rivolto tanto al diritto nemmeno dei condomini del soggetto utilizzatore ma alla tutela dell'unità culturale che non poteva essere divisa, la Corte Costituzionale è soltanto intervenuta su quei profili che portavano una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo appunto della discriminazione uomo-donna e implicitamente anche sul privilegio del maggiorascato che oggi non è più conforme all'articolo 3 della Costituzione. Ecco, io scusate questo incipit lungo, ma lo ritenevo doveroso per evitare che la 168 possa essere interpretata in un modo non conforme al messaggio che effettivamente ci ha voluto trasmettere. Ecco, ancora il problema che si pone anche con riguardo alle situazioni economiche che ci sono e all'importanza qualitativa e quantitativa di questi patrimoni è se la conservazione sia in grado di resistere alle trasformazioni rapidissime del mondo in cui viviamo dominato da radicali cambiamenti e da incertezza, senza ricorrere all'attualità abbiamo visto questa mattina i poveri utenti della Galizia a quali vicende storiche sono stati sottoposti nell'esercizio di un diritto che veniva esercitato abba immemorabile. E mentre gli immensi agglomerati urbani concentrano in poco spazio gran parte della popolazione mondiale e l'agricoltura viene sviluppata in modo intensivo e raramente rispettoso della dinamica della terra un tempo appunto scandita dalla rotazione culturale che vi dicevo la ultraesistenza di questi turitti sta a testimoniare che la loro sopravvivenza è legata a potenzialità suscettibili di future realizzazioni ma attenzione intrinsecamente incompatibili con lo sfruttamento di rapina del territorio e con la logica del profitto ad ogni costo. Ecco, questo vorrei ricordarlo perché altrimenti staremmo a parlare di un diritto condominiale di tipo quiritario. Per una conferma di tale assunto occorre probabilmente rimuovere appunto incrostazioni che ci sono state nei 160 anni quasi dall'unità d'Italia ad oggi ma anche prima è ben noto che dopo l'unità d'Italia le prefetture e i comuni di stampo napoleonico cercavano di utilizzare questi patrimoni unicamente per fare cassa quindi c'era la legge sulla mano morta c'erano disposizioni che portavano alla loro dispersione e i pregiudizi secondo me sono due uno riguarda il pregiudizio liquidatorio dei patrimoni civici che caratterizza l'intestazione della legge 1766 del 27 e che è stata giustamente molto attaccata negli studi di Paolo Grossi e questo pregiudizio liquidatorio che si ispira comunque a quella che viene ritenuta da questo punto di vista che non condividiamo la naturale riespansione della proprietà quiritaria uscua desidera, uscua d'inferos nella prospettiva di uno sfruttamento appunto intensivo latore del massimo profitto economico ma io voglio mettere in guardia perché qui ho tanti amici che si sono lasciati sedurre da questa ulteriore prospettiva dalle visioni millenaristiche dei beni civici che sarebbero secondo alcuni modi di vedere nostalgici la panacea di un profigo ritorno generale alla terra e all'occupazione agricola è una tesi affascinante ma in realistica prospettiva che ha prodotto equivoci non meno gravi di quella liquidatoria perché ha ingenerato progetti e contenziosi in ordine qui rubo la metafora a Paolo a nuovi modi alternativi di possedere troppo simili anch'essi ad una nuova ed eccentrica proprietà quiritaria collettiva ha manipolato appunto il titolo del libro di Paolo perché alcuni orientamenti non condivisibili tendono ad esprimere l'equivalenza tra i modelli storici consolidati dei, io li voglio chiamare beni collettivi proprio per non andare a specificare cose che sono specificabili solo nella misura in cui le certezze delle evidenze storiche ce lo consentono e nuovi progetti attribuiti alla libera determinazione delle collettività locali secondo questo modo altrettanto non condivisibile le collettività locali sarebbero legittimati in virtù dell'antica titolarità a modificare a delibitum destinazioni d'uso soggetti utilizzatori regime giuridico tale libertà assoluta in realtà non esiste e non è mai esistita perché i limiti posti a tale libertà di regole di natura pubblica siano essi consacrati ineditti bolle, trattati concessioni di vario genere abbiamo avuto tante testimonianze già tra ieri e questa mattina molto eterogene hanno sempre costituito un elemento conformante di tali situazioni giuridiche conformante nel senso di perimetrare il potere delle collettività condominali mi direte ma lei è dell'idea di Paolo Grossi per cui le regole vengono dal basso oppure ha una visione sovranista per cui è diritto soltanto quello che viene imposto di volta in volta dagli editti bolle, trattati o leggi di Paesi caratterizzati dalla rappresentanza democratica io dico che queste cose vanno intese esattamente in senso complementare perché la caratteristica di questi istituti rispetto a tante riforme degli anni 90 che sono fallite proprio perché non partivano dalla base dagli usi dalle regole già condivise dalla gente dicevo questa formalizzazione delle regole in realtà è una formalizzazione che parte da qualcosa che già esisteva da un sostrato normativo che si rintracciava nelle popolazioni locali così come sedimentatosi attraverso guerre attraverso eventi sanguinosi attraverso occupazioni illegittime ma comunque attraverso una congerie di situazioni che poi hanno portato alla creazione di un ordinamento de facto che nel momento in cui veniva trasposto in un editto altro non era che in una ricognizione tecnica di quello che già esisteva magari con qualche variante ad uso un delfini che era fatto dal potere costituito del tempo il quale cercava di intromettersi in questa dialettica però ecco non c'è un'antitesi tra la formalizzazione di questi diritti e la loro genesi viceversa pensare a una possibilità oggi di inserirsi su questo strato storico estremamente complesso attraverso una visione veramente creativa che magari bypassa proprio le regole della proprietà mani giunte questo mi sembra francamente non costituzionalmente corretto e certamente non è quello che ha detto la Corte Costituzionale oggi l'intervento pubblico si è concentrato sulla valenza paesistico e ambientale di tali beni e del correlato regime giuridico in tal modo orientando e limitando i poteri delle collettività locali in ordine ai mutamenti di destinazione d'uso e delle sclassificazioni tra di noi ci sono anche dei valenti notai i quali giustamente lamentano le problematiche relative a questo tipo di proprietà che non è stata mai adeguatamente valorizzata nelle norme riguardanti le conservatorie e i catasti ora quello che si può dire in questi casi è che probabilmente visto che da tutto quello che si è detto questa mattina rimane confermata la giurisprudenza della Corte Costituzionale che riconosce nel mutamento di destinazione l'istituto per aggiornare ai tempi la gestione di questi beni e anche la loro utilizzazione che probabilmente il mutamento di destinazione andrebbe profondamente inserito nel circuito della pubblicità costitutiva per far sì per esempio che non accada quando magari c'è qualche situazione di utilizzazione non corretta su un demanio collettivo la sua regolarizzazione in un'ottica di interesse pubblico non comporti poi per il regolarizzato il duplice onere di riacquistare anche quello che ha realizzato in proprio il mutamento di destinazione riguarda l'area di sedime quello che ci viene realizzato sopra purché compatibile con la vocazione del bene e con la tutela paesistico ambientale in realtà è un qualcosa che giustamente va scritto a chi lo realizza in termini sia di costi che di manutenzione e questo è un problema pratico che però diventa anche un problema ontologico perché se poi non si risolvono queste cose la percezione dei notai e del cittadino comune verso i domini collettivi e gli usi civici più in generale diventa di sfavore in quanto servirebbe a bloccare delle situazioni che poi comportano l'impossibilità di un'utilizzazione proficua del bene le terre civiche siano esse territori gravati da uso civico siano esse domini collettivi non sono appunto condomini privati per i quali la collettività ha pieno potere dispositivo l'utilizzazione di questi beni può evolvere in direzioni finalizzate alla cura di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ma non essere stravolta qui valgono un po' i principi del 1322 del codice civile la meritevolezza degli interessi comunque la loro titolarità è regolata non da un regime di successione di tipo civilistico bensì da un rapporto di incolato cioè di stretta inerenza territoriale tra il titolare e il bene ieri abbiamo visto quanto tutto questo conti in una realtà recessiva come quella di nonantola alcuni equivoci hanno caratterizzato anche la recente legge 168 come dicevo che deve essere appunto interpretata in senso rigoroso come tutela di queste proprietà mani giunte e della conservazione della vocazione non nella formazione appunto di un potere dispositivo a delibitum da parte delle collettività e poi appunto dicevamo che qui devono essere resi compatibili la tutela paesistica ambientale e quella demaniale ed uso civico quindi non è che sia a priori contrari alla creatività di qualche soluzione di gestione ma certamente deve essere conforme a questo stamattina mi ha affermato una dirigente regionale la quale mi diceva ma le regioni scompaiono dopo le recenti novità legislative è chiaro che non scompaiono le regioni sono richiamate dalla giurisprudenza della corte costituzionale semplicemente a fare le regioni cioè ad inquadrare insieme allo stato l'utilizzazione di questi beni nella pianificazione paesistico ambientale quindi è chiaro che quando si vogliono introdurre delle innovazioni bisogna trovare un procedimento semplificato e articolato la quale porti da un lato i comunisti e le associazioni a dire la propria e dall'altro coloro a cominciare dai comuni che hanno il potere di disciplinare l'utilizzazione del territorio ad adeguare i loro strumenti urbanistici ed è chiaro che qui bisogna snellire molto le procedure perché altrimenti quel potere quella capacità che oggi giustamente era rivendicata da Pagliari di adeguare la utilizzazione di queste terre ai tempi è chiaro che deve essere supportata da procedure rapide io ho più delle regioni devo dire che ho paura del ministero dell'ambiente che si affanna per fortuna qui è coinvolto il ministero dei beni culturali e questo mi lascia ben sperare perché l'ambiente purtroppo è afflitto da una ipertrofia burocratica e quindi finisce per intervenire sempre in senso negativo mai in senso propositivo gestionale sulle varie situazioni che si vengono a creare e ancora vado salto questa parte e vado un po' alle considerazioni finali abbiamo parlato dell'interpretazione restrittiva delle norme che riguardano i mutamenti di gestione di queste aree ecco un'altra cosa volevo dire che il bene dei beni civici siano essi usi civici o domini collettivi è la eterogeneità abbiamo visto non spendo una parola in più ma abbiamo visto che andare a catalogare in categorie concettualmente troppo strette fenomeni così eterogenei diventa un problema di gabbia non di potenzialità espressive dei mutamenti e ancora dei vincoli abbiamo già detto abbondantemente ecco gli istituti traslativi qui la legge del 27 è ancora pienamente valida la legge del 27 in realtà pur chiamandosi liquidazione per una di quelle eterogenesi dei fini mantiene sia il regime di inalienabilità inusucabilità eccetera e distingue come eccezioni assolute gli istituti sclassificanti veri e propri che sono come sapete la legittimazione e la alienazione dal mutamento di destinazione ecco noi dobbiamo distinguere il problema dell'area che è rimasta unica in clave in una megalopoli gravata adusso civico in sede chiamato o dominio quello che sia in un contesto completamente urbanizzato e regolarizzato per la quale il problema è solo prevedere l'alienazione al costo ovviamente di mercato ma l'alienazione dalle situazioni che invece interrompono il demanio quelle che giustamente la legge del 27 e il regolamento del 28 ritenevano non sanabili col passaggio dal demanio in allodio ma semmai soggette al mutamento di destinazione ecco in questi casi facciamo un esempio e ce ne sono tanti facciamo l'esempio di Roma raccordo anulare zona di Cregna Santa Andrea terreni dell'università agraria di Frascati i nativi di Frascati da dopo il 1950 non sanno nemmeno che l'università agraria di Frascati era la più grande del Lazio ed era la capofila nazionale dell'ammasso del grano durante la prima guerra mondiale oggi non lo sanno più tutta quell'area lì è stata completamente costruita l'Ikea la zona di Vermicino zona dentro il raccordo anulare zone che stanno nel territorio di Roma che vogliamo fare demolire tutto in nome dei principi è chiaro che questo non si può fare però evidentemente lasciare traccia attraverso un mutamento di destinazione che pensando alle generazioni future preveda la clausola risolutiva che un domani che quelle zone diventassero disabitate ritorna l'antica destinazione questo è probabilmente l'istituto più normale perché prende atto di una situazione socialmente rilevante prende atto che comunque le usurpazioni dovrebbero avere sia pure in modo limitato un indennizzo perché si afferma il principio di legalità e risolvere una volta per tutte anche al catasto e alle conservatorie perché accade che questi terreni poi gli immobili costruiti su questi terreni quando diventano oggetto di successione di compravendita eccetera scontano l'irregolarità di base l'occupazione illegittima di base e quindi bisogna assicurare a questi istituti una flessibilità che sia premetto che erano domini collettivi non erano usi civici per tornare alla nostra distinzione li possedeva l'università agraria come domini collettivi questi quindi se noi affermassimo l'assolutezza dovremmo dire che tutto andrebbe demolito no andrebbe semmai ricostituito un patrimonio di analoga natura magari con i proventi della regolarizzazione col mutamento di destinazione d'uso quindi questo affronta l'ultimo problema la gestione deve essere sì flessibile come diceva come diceva Nervi all'inizio del suo intervento deve tenere conto della evoluzione dei tempi deve tenere conto delle esigenze delle regole economiche che non significano regole economiche del massimo sfruttamento ma certamente regole economiche ispirate all'equilibrio ispirate alla vocazione dei beni e come è stato detto da Pagliari questa mattina ispirate all'articolo 2 della Costituzione per quello che riguarda la centralità nella persona poi a vivere in un territorio sfruttato ragionevolmente ed io penso anche all'articolo 3 in ragione di quella felice espressione che dice che sono patrimoni primari in termini di equità intergenerazionale il mio appunto vuole essere un richiamo al realismo da un lato e dall'altro a mantenere con passione quello che tutti condividiamo come un lascito dei nostri antenati pervenuto come un tesoro nell'attuale situazione perché se fosse stato sfruttato intensivamente probabilmente non avremmo più nulla e quindi su questo solco continuare ad approfondire i motivi di specificazione e diseguaglianza ma anche la profonda uniformità vocazionale di quello che rientra sotto la locuzione di domani civici grazie e detto questo però professore sperando di non averle portato via troppo tempo all'intervento le cedo la parola per sentire le interessantissime cose che la sua relazione preannuncia grazie ringrazio per l'invito inizio subito dalla domanda di questo lungo titolo che è poi la sostanza del mio intervento precisando che sono uno storico economico allora se i commos chiamiamoli come volete i beni collettivi tutto quello che poi anche gli economisti hanno messo sotto questa categoria sono una risorsa o un relitto o un relitto del passato allora per fare questa cosa bisogna sgombrare innanzitutto il terreno da uno scomodissimo convitato di pietra che è quel signore lì allora Gareth Hardin che gli economisti amano immensamente in realtà sempre per paradosso non è un economista è uno studioso tant'è vero il suo articolo sui commons appare su Nature che è una delle più importanti riviste di scienze e non di economia lui studia una zona pascolo sfruttata dagli allevatori di una comunità ovviamente ognuno ha un vantaggio sfruttando questa zona pascolo però i costi che è costretto a pagare per l'assolutamente eccessivo sono dilazionati nel tempo e sono condivisi con gli altri quindi qual è il problema e del cuore dell'idea di Hardin che ogni allevatore essendo razionale e questa è la cosa che piace tantissimo agli economisti cercherà di massimizzare il proprio profitto quindi cosa fa aumenta il numero dei capi di bestiame che ha e quindi porta all'esaurimento della risorsa è quella che lui chiama la tragedia dei commons allora il problema è che lui è uno studioso influentissimo se voi andate su Google Scholar il suo articolo su Nature ha quasi 40.000 citazioni è uno degli articoli più citati dalle scienze sociali però c'è un baco in questo discorso e cosa vuol dire essere razionali allora io sono uno storico che è all'avventura di insegnare in una facoltà di economia e ho attaccato fuori dalla porta della presidenza essendo diventato presidente appunto della sua economia questa frase allora questa frase che secondo me è interessantissima dice che l'economia ovviamente considera il genere umano solo in quanto dedito all'acquisizione del consumo non già che qualche economista sia mai stato così folle da supporre che gli uomini siano fatti in questo modo allora chi scrive questa frase non è un pericoloso sovversivo eterodosso ma è uno dei padri del pensiero marginalista Stuart Mill che scrive questa cosa tra l'altro in un contributo che è fondativo perché sulle definizioni dell'economia politica è il metodo di indagine che è proprio dell'economia politica il problema è che questo è ovviamente una caricatura gli economisti non se ne rendono conto purtroppo molto spesso perché perché le scelte delle persone e anche il caso dei beni collettivi lo dimostra sono guidati da tantissime altre cose allora ne dico solo tre una cosa fondamentale sono i valori allora chi è questa persona con la zappetta io nella mia vita ho avuto la fortuna di conoscere diverse persone straordinarie questa è una di queste persone tra l'altro ha molto a che fare col discorso delle terre comuni perché è stato anche prima di nonantola donna rigo beccari che vedete qui è stato uno dei primi italiani che è stato avuto il titolo di giusto tra le nazioni la foto che lo ritrae è nel 64 a gerusalemme sulla colina dei giusti e sta piantando il suo alberello che adesso è cresciuto perché perché durante il periodo del fascismo ha salvato praticamente un centinaio di bambini ebrei nascondendoli nel seminario eccetera allora è ovvio che se la vedete dal punto di vista dell'economista questa è una scelta totalmente irrazionale perché la cosa più razionale da fare in quel periodo gli ebrei era di denunciarli non di nasconderli è finito in prigione è stato sette mesi è stato torturato eccetera 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 quindi voi avete innanzitutto i valori avete un'altra cosa che è fondamentale che sono le routine come scrive un grandissimo poeta che è Giacomo Leopardi nella nostra vita è più il durare che il vivere in realtà noi facciamo grandissima parte delle cose che facciamo non tanto perché siamo sempre lì a pensare cosa tiriamo a casa e poi tra l'altro quando l'uomo interagisce con gli altri uomini una cosa che diventa fondamentale è quello che René Girard che è un altro scrittore io penso che gli scrittori e poeti sono quelli che dicono le cose più sensate sull'esistenza non gli scienziati sociali gli storici o gli economisti dice noi in effetti siamo imitativi e mimetici noi in realtà il nostro desiderio è guidato dall'imitazione degli altri quindi c'è una dimensione sociale fortissima questo per dire che cosa che bisogna abbandonare un po' la troppa teoria e quando si studiano i beni collettivi fare quello che ha fatto la Ostrom sostanzialmente che ha detto lasciamo stare il discorso teorico vediamo come funzionano nella realtà questi beni allora se si va su quel terreno quali sono i problemi iniziano ad essere dei problemi che hanno anche altre istituzioni voi dovete sostanzialmente da un lato mettervi d'accordo sulle regole di sfruttamento e su quello che ognuno deve dare per contribuire al funzionamento del sistema e dall'altro monitorare le sanzioni e decidere come sanzionare i trasgressori allora è un processo difficile è un processo istituzionale ma si può ricostruire allora lei ha dato ha avuto il grande merito secondo me di aver definito un quadro concettuale coerente che serve veramente per vedere concretamente come funzionano i sistemi di risorse collettive allora quello che io farò da storico parlerò un po' della montagna in particolare delle Alpi cercando di capire i cambiamenti che ci sono stati e cosa sta succedendo oggi allora parto da molto lontano cioè dall'età preindustriale ma in realtà sarò molto rapido perché parto dall'età preindustriale perché gran parte le funzioni l'importanza dei beni collettivi le funzioni sono sempre quelle erano le stesse che c'erano in età preindustriale c'è un'importanza economica che deriva dallo sfruttamento in particolare dei pascoli e dei boschi c'è un'importanza sociale perché ha una funzione fondamentale di ammortizzatore sociale per i più poveri che possono accedere alle risorse collettive c'è un discorso di tutela ambientale allora che siano importanti lo dimostri il fatto che quando inizia l'attacco allora l'attacco in realtà i beni collettivi non è un discorso ottocentesco inizia molto prima quelli in pianura io in mente bene il caso della Lombardia ma anche la terraferma veneta spariscono già nel cinque nel seicento subito però è interessante questa roba quando nello stato di Milano Beccaria diventa il primo professore di economia alle scuole palatine ce l'ha molto con i beni collettivi perché questi beni non servono a niente perché nessuno ha interesse a valorizzare beni che non sono di nessuno però dice tocchiamoli eliminiamo quelli che sono rimasti in pianura ma quelli in montagna non li tocchiamo perché in montagna sono importanti per la sopravvivenza delle persone tra l'altro sono molto funzionali in un'economia che è diversa da quella di adesso perché l'area montana c'è un grandissimo vantaggio qual è? che se in una realtà dove i costi di trasporto sono molto elevati quindi costa portare le merci a distanza l'area montana c'è il vantaggio di avere materie prime come i minerali la lana il legno fonti di energia le cadute d'acqua per cui ci sono anche un sacco di attività di tipo produttivo e manifatturiero nell'area montana in questo contesto ovviamente i commons hanno due obiettivi uno di tutto è l'ecologica che è evidentissimo nel problema dei boschi dove ci sono per esempio nelle vallate lombarde e gli alti forni e l'impianto di fusione del ferro i bossi sono assolutamente curati, regolati eccetera non si possono tagliare indiscriminatamente perché sanno che ovviamente se no nel giro di 20 anni finisce tutto e poi hanno ovviamente un aspetto economico perché per molte famiglie l'accesso a questi beni era importante in chiave integrativa del reddito ovviamente se si studiano le cose da storici bisogna anche abbandonare le idee troppo idealistiche un'idea idealistica che c'è stata molto e si trova in un sacco di lavori che è questa società montane è un po' il mito della Svizzera alpesta di Rousseau del luminismo era una società ugualitaria non c'è niente di più falso queste società sono assolutamente asimmetriche voi avete già un conflitto di partenza tra gli originari e non originari che c'è praticamente quasi ovunque poi all'interno della comunità non sono mica tutti i ricchi allo stesso modo ci sono quelli ricchi e quelli meno ricchi e questo impatta anche sullo sfruttamento dei beni perché perché se il bosco lo possono sfruttare tutti come risorsa collettiva il pascolo se uno non c'è il bestiame il vantaggio che ne ricava ovviamente è completamente zero però non c'è dubbio che in questo contesto i beni collettivi sono importantissimi cosa succede nell'ottocento? Allora nell'ottocento c'è un duplice cambiamento allora dal punto di vista culturale istituzionale abbiamo dei lavori assolutamente fondamentali che sono già stati citati l'idea qual è l'idea di questi beni viene chiaramente fuori nella relazione finale dell'inchiesta Iaccini siamo negli anni 80 dell'ottocento perché l'inchiesta Iaccini l'inchiesta Gravia cosa fa vedere che questi beni sono una grandissima estensione ce n'è un sacco ma viene sottovalutata completamente la loro importanza sociale e economica perché qual è l'idea come si legge nella relazione finale sono definiti gravami della proprietà perché? ma perché siete già in un mondo ormai dove c'è stata la prima rivoluzione industriale sta iniziando la seconda l'idea qual è? che quello che fa andare avanti il mondo i due pilastri del capitalismo sono la proprietà privata e il mercato e ovviamente questi beni non entrano molto bene in questa categoria quindi cosa bisogna fare? bisogna levarli per lasciare spazio alla proprietà privata individuale che è molto più efficiente però la trasformazione più grande in realtà è di tipo economico perché? perché la montagna inizia a perdere i vantaggi che aveva questo succede già con la prima rivoluzione industriale quando arriva la ferrovia tutta una serie di attività che prima erano nelle aree montane penso per esempio alla lavorazione del ferro le cartiere scendono a valle scendono a valle perché può arrivare facilmente la materia prima arriva il carbon coke quindi inizia a esserci una delocalizzazione ma questo processo va avanti anche con la seconda rivoluzione industriale perché quando arriva l'energia elettrica che potrebbe essere una grande opportunità la zona dove vanno creati i bacini ovviamente e l'area montana cominciare dall'area alpina cosa succede? che di fatto le montagne si trovano a produrre energia a uso altrui chi colonizza la Valtellina e la M è l'azienda elettrica municipale di Milano ma la corrente che producono serve alle fabbriche che ci sono a Milano va detto però che all'interno dell'area alpina all'interno dell'area montana ci sono quote diverse per cui chi sta alle quote basse o medie è meno sfavorito di chi sta alle quote alte tant'è vero che i fondovalle e le quote più basse hanno un grande sviluppo soprattutto dove arriva la ferrovia hanno un grande sviluppo anche dal punto di vista industriale basta che pensate alla Cogne a Osta al discorso della creazione della zona industriale di Bolzano sotto il fascismo chi soffre maggiormente sono esattamente le zone dove ci sono i beni i beni collettivi e quindi le terre alte allora mi soffermo un attimo sull'inchiesta dell'Ineas sullo spopolamento montano non solo perché è un'inchiesta veramente di altissimo livello e valore anche dal punto di vista scientifico dura anni sono molti volumi allora da questa inchiesta viene lo dico subito siccome è fatta da tanti ricercatori diversi viene fuori un'immagine un po' contraddittoria dell'economia montana perché perché si mette in evidenza che è un mondo che sta attraversando un periodo difficile e in un difficile equilibrio ma l'idea che molti hanno che è qui secondo me invece realistica che si tratta comunque di una realtà economica chiusa che non ha poche relazioni con l'esterno e che sostanzialmente è solo alla fine dell'ottocento che questa economia chiusa stabile incontra una fase di difficoltà allora non c'è dubbio che le difficoltà maggiori che i ricercatori dell'Inea evidenziano riguardano proprio le quote più elevate dove ci sono i paschi dove ci sono i boschi e dove non si può praticare l'agricoltura intensiva che c'è nel Fondovalle dove non ci sono ovviamente le industrie che ci sono nel Fondovalle quindi dove le risorse sono sostanzialmente l'allevamento del bosco e sono anche moltissimi quelli che evidenziano in questa realtà il ruolo fondamentale svolto dalla proprietà o dalla gestione collettiva di paschi e dei boschi degli usi civici e non solo per gli equilibri economici locali ma anche per i bilanci perché affittare questi beni consente di avere le entrate per pagare le tasse vi ho messo solo una citazione che è quella di Giusti che è quello che commenta tutti i volumi dell'inchiesta relativa al volume sulla Lombardia dice chi ha studiato appunto l'area lombarda cosa ha fatto vedere che la proprietà comunale è un prezioso fattore di equilibrio per la vita montana una fonte di integrazione delle scarse risorse dei montanari dove si è mantenuta a termini sono le tasse locali rari nulla tenenti dove è mancata invece c'è la miseria e ci sono lo vedete qui vi ho fatto un altro esempio aree tra l'altro tipo il bellunese dove la proprietà collettiva è molto più estesa di quanto non sia nella montagna lombarda allora c'è una persistente importanza l'equivoco secondo me è quello di continuare a ritenere invece questa economia è un'economia chiusa non è mai stata un'economia chiusa è sempre stata un'economia aperta non solo perché per secoli i montanari sono migrati verso le città del piano io c'era Luigi Lorenzetti che ha parlato del Ticino chi costruisce in tre anni la scala sono degli imprenditori gli appaltatori vengono da Ticino e le maestranze sono ticinesi quindi c'è una grandissima mobilità da quelle aree non solo quelle aree vendono i loro prodotti i formaggi le cose che producono il legname in pianura quello che però mettono in evidenza chi scrive appunto l'inchiesta sullo spopolamento è che comunque è un po' paradossale perché da un lato è una realtà chiusa dall'altro però sentono sempre di più questo confronto insostenibile con quello che succede in pianura dove ci sono le industrie e quindi cosa succede? Sostanzialmente c'è lo spopolamento le cause dello spopolamento sono tante qui vedete molte delle cause tra l'altro che citano quelli che fanno l'inchiesta su Piemonte che è l'area che si spopola di più delle arpe occidentali dicono c'è il disordine idraulico le frane che derivano dai disboscamenti perché ovviamente c'è stato un problema di riduzione delle proprietà collettive ma la cosa che insistono di più la vedete qui è questa c'è praticamente un dislivello sempre più forte tra l'economia montana e quello che invece succede nelle zone di pianura dove è arrivata l'industria dove sta arrivando lo sviluppo moderno allora il Piemonte è già un caso ma è ancora più significativo quello che succede in Lombardia perché già allora è l'area più dinamica dal punto di vista economico del paese allora a me dici che quello che scrive la parte sulla Lombardia cosa dice che quando il montanaro viene messo a contatto con l'industria il dislivello che corre tra l'economia chiusa e di nuovo c'è questa idea dell'economia chiusa patriarcale la più avanzata forma di attività economica prende netta evidenza quindi c'è uno squilibrio troppo forte ma ancora più interessante è quello che dice questa madre perché lui fa anche delle interviste interviste a questa madre nelle montagne del Comasco che aveva cinque figli e dice tre si trovano all'estero fanno i fumisti e si guadagnano onestamente la vita malgrado il dolore di non vederli forse più io stessa gli ho consigliati a restare là dove sono perché la vita che si conduce qui è veramente impossibile per chi ha conosciuto l'altra vita e l'altra vita lo mettono in corsivo nel testo quelli che fanno l'inchiesta cioè è un confronto praticamente che diventa sempre più difficile allora quali sono le soluzioni allora da un lato c'è chi dice portiamo le industrie anche in queste zone ma ovviamente che ci dice se portate le industrie anche in queste zone i montanari finiscono di essere montanari perché perché il montanaro che è abituato all'officina abbandona completamente la terra e questo non deve succedere ovviamente nell'idea soprattutto non deve succedere per chi ha questa idea un po' idilliaca della realtà montana la culla dei valori del buon tempo antico che è minacciata dall'avanzare della modernità dove ancora esiste e questa è un'altra cosa che c'è in corsivo nel testo dell'inchiesta l'uomo natura che è una roba molto molto illuministica sostanzialmente chi ha queste idee tradizionali della montagna cosa vede come possibilità di sviluppo per queste aree il miglioramento dell'attività proprio della montagna quindi il bosco e il pascolo ci sono però delle nuove opportunità che però non vengono ancora percepite allora per quanto riguarda il discorso lo vedete degli impianti idroelettrici l'atteggiamento negativo cioè sostanzialmente se voi leggete l'inchiesta quello che si vede soprattutto quando si parla di impianti idroelettrici è che si sopprimono i migliori pascoli per costruire le dighe e i bacini diverso invece il discorso per quanto riguarda il turismo perché perché iniziano a esserci delle forme turistiche significative si parla di Selvino si parla di Cortina d'Ampezzo si parla del Passo del Tonale però come vedete queste testimonianze sostanzialmente loro non danno molta fiducia al turismo perché perché da un lato dicono il turismo comunque dal punto di vista economico non è in grado di compensare lo squilibrio che c'è tra le terre alte e le terre basse e poi soprattutto il turismo dal punto di vista lavorativo non è in grado di arrestare il discorso dello spopolamento montano quindi non può essere una soluzione allora qual è il problema vero che sono consapevoli però e questo è fondamentale che per la montagna e quindi anche per le terre collettive per i commos sta iniziando una nuova stagione allora Medici da questo punto di vista è quello più lucido perché lui scrive che se l'avvenire della montagna viene compromesso e l'idea è esattamente quella della compromissione dallo sviluppo della viabilità dai commerci dalle industrie significa semplicemente che la montagna dovrà avere e avrà un avvenire diverso da quello che sognano gli ingegni innamorati della montagna che vivono nelle città e montanari che indulgono a sognare l'idiglio pastorale e si attardano a meditare sull'antica autonomia del comune rurale o addirittura sulla comunità degli antichi originari quindi sta cambiando il mondo allora che il mondo stia cambiando lo si vede chiaramente dopo la seconda guerra mondiale perché perché arriva una cosa che cambia completamente gli equilibri nell'area montane che è il turismo di massa e in particolare il discorso dell'affermazione degli sporti invernali allora c'è un ribaltamento di fortuna le zone del fondo valle penso alla valle d'aosta che avevano avuto successo con la seconda rivoluzione industriale a osta le chatillon ver e compagnia si deindustrializzano chi esplode sono esattamente le località che sono più in alto dove si fanno gli impianti le piste da sci e così via allora c'è una grande trasformazione e mi avvio rapidamente a concludere allora da un lato il turismo diventa sempre più rilevante non solo diventa sempre più rilevante ma inizia a esserci anche una coscienza dal punto di vista ambientale sempre maggiore perché? perché si iniziano a vedere anche la drammaticità dell'impatto comunque ecologico che ha avuto l'industrializzazione la montagna quindi e le terre collettive che in montagna continuano ad essere un sacco sono ancora oggi comunque centinaia di migliaia di ettari tra alpi e appennini diventano un laboratorio interessantissimo anche per uno storico perché? perché voi praticamente entrate su un terreno dove anche la storia può dire molto che è quello della regolazione territoriale allora per quanto riguarda la regolazione territoriale vedete voi avete due soluzioni estreme o tutelate tutto quindi i parchi più o meno intoccabili dall'altro invece non tutelate niente ed è quello che è successo in molte aree montane una proliferazione incontrollata delle seconde case in Valle d'Aosto ormai se vi guardate il censimento dell'Istat il 50% delle case che ci sono non sono abitate sono seconde case e ovviamente con un impatto ambientale enorme allora ovviamente in un contesto di questo tipo le terre collettive cambiano la loro funzione rispetto a passato perché in passato sostanzialmente garantivano il sostentamento della comunità e della parte più grande della popolazione e quindi avevano anche una funzione sociale fondamentale ora il dilemma ma qual è lo vedremo siamo di fronte alla possibilità di salvaguardare preservare valorizzare anche per le generazioni future un ambiente che ha una grandissima importanza o dall'altro invece è quella di utilizzarlo come dire a fini ludico ricreativi turistici è la contrapposizione che c'è già a fine ottocento tra Raskin che è uno di quelli che pensa che la montagna è praticamente un'immagine di Dio è la posto più grande del creato e Leslie Stephan che scrive un libro in cui definisce le Alpi the playground of Europe il terreno da gioco dell'Europa dove si fa a fare sport e divertimento come il cricket e il canottaggio allora ovviamente da questo punto di vista le proprietà collettive possono essere un elemento importante di sviluppo e di uno sviluppo più sostenibile soprattutto dove sono ancora rilevanti e quindi le scelte degli abitanti hanno un impatto e non è che vi spieghi a voi queste cose che le sapete molto meglio di me uno dei motivi per cui Cortina non è diventata Cervigna quindi uno scempio dal punto di vista urbanistico è perché gran parte della conca di Cortina è dei regoglieri e quindi non si può spostare un sasso se non c'è l'approvazione dell'assemblea dei regoglieri e quindi questo ovviamente è stato un grande vantaggio in questo discorso però è entrato un altro soggetto che è lo Stato perché? perché è successa secondo me questa roba che ha anche una sua logica sostanzialmente le proprietà collettive hanno sempre avuto la funzione di tutela ecologica e di conservazione di risorse di grande valore ambientale e paesaggistico anche che poi si sono riconosciute come di grande valore ambientale e paesaggistico quindi questo ha portato molto spesso a percepirle come una cosa molto simile ai parchi e quindi al fatto di tutelare appunto per le generazioni future queste cose interessanti dal punto di vista paesaggistico quindi cosa è successo che molto spesso si è incluso dentro i parchi zone estenate a parco proprietà collettive o terre che appartenevano alla comunità però qual è il problema? che questa scelta qui deve essere condivisa perché se la scelta viene fatta a livello centrale come ha scritto qualcuno per soddisfare di più la passione ecologista dei cittadini e non gli interessi delle comunità locali ci sono dei problemi perché? da un lato perché magari gli levate le risorse non possono più portare il bestiame ma soprattutto io conosco bene il caso della Val d'Aosta andando lì da 40 anni perché gli sottraete possibilità di reddito significative perché se voi fate il parco non ci possono fare gli impianti da sci e le piste e gli impianti da risalita e le piste da sci allora nel caso del Gran Paradiso c'è stata un istituzione di grandissima attenzione poi quelli più giovani non lo sanno se sono i medicati ma negli anni 60 e 70 mettevano le bombe sotto i tralicci e l'energia elettrica perché non volevano il parco la Val di Rem la Val Grissans e la Val Savarans e loro dicevano ma come voi qui vi preoccupate dei stambecchi e delle marmotte eccetera ma non vi preoccupate dell'unica specie che rischia di estinguersi che siamo noi che abitiamo qui dentro il parco quindi sicuramente bisogna trovare una modalità condivisa adesso sono contenti del parco in Val di Rem perché? perché si sono resi conto che hanno una delle valli più belle delle Alpi non so perché in fondo c'è una delle pareti più belle delle Alpi ma perché è rimasta sostanzialmente incontaminata e quindi inizia a esserci tutto un turismo di tipo dolce allora l'ultima cosa e concludo mi vorrei dire quali soluzioni allora sulla persistente importanza voglio dire se voi guardate il bel lavoro che ha fatto Nadia Carestiato sul Fiuli o quelli di Luven sulla Val d'Aosta c'è ancora un sacco di terra che comunque rientra in questa categoria e quindi dal punto di vista anche delle potenzialità economiche per le comunità sono molto grandi cosa bisognerebbe fare io dico modestamente che vabbè c'è una grande tradizione di gestione di queste risorse di interazione non distruttiva con l'ambiente di attività economica agricoltura allevamento servicoltura che si integrano bene di prodotti locali che diventano sempre più importanti perché il turismo gastronomico sta diventando uno dei driver più forti turistici che ci sono in Italia bisogna ovviamente coniugare la tradizione con la modernità allora io devo dire che da questo punto di vista sono molto scettico e critico rispetto al discorso della strategia per l'area interna perché se avere una strategia per l'area interna è una cosa che ha senso come è stata fatta lasciando che le regioni indichino le aree che devono avere gli interventi per l'area interna è diventato di nuovo una cosa politica con dei criteri assurdi in Lombardia una delle aree interne che deve avere queste robe è Madesimo che praticamente lo sci ha reso ricchi tutti a Madesimo è un posto dove le case costano 8 mila euro al metro quadro ancora oggi nonostante la crisi del 2008 come abbiamo bisogno dei soldi per le aree interne io sinceramente non lo so cos'è che servirebbe veramente io penso che l'unica cosa che servirebbe veramente ma non si può fare spot se uno vuole valorizzare queste aree e soprattutto tenere lì i giovani ci deve portare la banda larga deve fare degli investimenti mostruosi per portare la banda larga in quelle zone lì perché non serve a niente che voi fate come ha fatto un mio amico una bellissima per andare in giro per gli alpeggi delle valli bergamasche se poi metà dei posti dove voi dovete andare non prendi il telefono perché non andate da nessuna parte non ci va il turista e non riesce a usarla chi lavora qual è però il grande vantaggio che se voi riuscite a mettere insieme queste due cose chi vive in quelle zone e chi gestisce da secoli quei beni ha il grande vantaggio di avere a disposizione una risorsa unica che non è riproducibile in nessun modo e quindi questo è diventato dal punto di vista turistico un asset assolutamente impagabile ma che va preservata ma loro hanno esattamente le capacità per farlo perché sanno da secoli come si fa a preservare questa risorsa quindi per concludere e tornando all'inizio il grande discorso proprietà privata o invece proprietà condivisa io penso che uno dei grandi vantaggi dell'abitudine a una proprietà condivisa è che ovviamente c'è una dimensione di tipo associativo e cooperativo molto più forte allora gli economisti questo lo vedono poco ma secondo me il più grande vantaggio di realtà di questo tipo è che creano un capitale sociale di una qualità enorme per tornare al mio esempio della fotografia e su questo chiudo Don Arrigo quando ha salvato i 76 bambini ebrei che studiavano a Villa Emma un po' li ha messi nel suo seminario travestendoli da aspiranti preti un po' li ha mandati dalle suore ma la maggior parte dei bambini sono stati nascosti ospitati e protetti dalle famiglie di Nonantola e se le famiglie di Nonantola hanno fatto quello il fatto che lì ci sia una partecipanza che ha mille anni secondo me il suo peso sicuramente in questa cosa ce l'ha quindi ritengo veramente avrete capito che la mia domanda era una domanda assolutamente retorica io non penso che siano un relito del passato ma che queste proprietà siano di fatto una grandissima opportunità per le persone che le conoscono le vivono e che le amano perché sono lì praticamente da sempre vi ringrazio per la tutta in effetti con il professor Mocarelli non ci siamo messi d'accordo ma abbiamo molto battuto su analoghi temi quello della diversità delle situazioni e della meritevolezza di essere sviluppate secondo una continuità assolutamente in un'ottica rivoluzionaria perché rivoluzionaria nel senso di cambiare tutto perché altrimenti il vincolo non avrebbe non avrebbe senso e io credo che questo voglia dire e se poi andiamo a vedere anche nel tempo preistorico questi caratteri diversi delle enclavi alpine delle montagne rispetto ai territori di transito delle migrazioni ha avuto sempre un grandissimo peso perché in questa chiamiamola dal punto di vista dal punto di vista demografico si chiama segregazione è proprio questa segregazione che ha creato la biodiversità in tutti i sensi sia nel modo di coltivare sia nell'individuare determinati valori ed è proprio questo io credo il lavoro che il centro di Pietro sta cercando di valorizzare da sempre perché non ci propone classificazioni a priori ma ci fa sempre conoscere situazioni diverse che poi sta a noi riportarle ad una certa serialità e serialità catalogatoria diciamo ecco a questo punto sotto la sapiente guida di Pietro io faccio l'appello dei supestiti coloro che hanno in previsione delle comunicazioni che prego ovviamente di contenere in dieci minuti e comincio con se sono presenti ovviamente rispondano Federico Biragan e Marta Villa gestione delle aree di uso civico protezione della biodiversità nemmeno a farla apposta e salvaguardia del paesaggio 10 minuti e due sì sì no ma c'è Bottini che ancora ah ma dobbiamo allora diamo la precedenza che voi sentite va bene voi rimanete voi rimanete intanto sì rimanete al tavolo sì sì noi non abbiamo tre per cui siamo qua benissimo grazie mille Bottini che parla di un altro tema caro ce l'abbiamo nel DNA genetica e storia fra le proprietà collettive della pianura padana bellissimo il titolo è già ecco la presentazione sì sono un ricercatore dell'università di Bologna vi propongo un tema sicuramente un po' diverso da quelli visti finora perché parliamo di genetica allora mi sono permesso di modificare un pochino il titolo rispetto a come era originariamente anche perché ho avuto dei risultati nel frattempo e ora è diventato ognuno a suo modo genetica e storia fra le proprietà collettive della pianura padana allora ci si potrà chiedere che diamine c'entra la genetica con con le proprietà collettive in realtà c'entra parecchio c'entra parecchio e se ne ci si è girato intorno ci si è girato intorno perché l'aspetto che a me interessa di più in quanto genetista è il legame fra i partecipanti fra gli appartenenti fra le comunità e il territorio e l'ambiente quindi è un tema che è tornato ed è stato ripetuto più volte fra ieri e oggi dal mio punto di vista chiaramente questo diventa la possibilità di avere a disposizione mettiamola così dei campioni di esseri umani di persone di cui io so che esiste un legame con una certa precisa area geografica da molte generazioni siamo partiti affrontando le partecipanze le partecipanze emiliane che sono alcune insomma alcune particolari alcune particolari modalità di proprietà collettive partecipanze lo ripeto rapidissimamente ma saprete meglio di me fondamentalmente ci sono due regole pratiche per essere partecipanti la prima è discendenza legittima di solito tipicamente in linea paterna da una famiglia della partecipanza e la seconda è per l'appunto l'incolato di cui è stato citato più volte la residenza sul luogo e quindi questo garantisce la presenza di linee paterne da molte generazioni motivi di interesse legame col territorio continuità temporale domande scientifiche possono essere tante collegate a questo per esempio sulla natura della popolazione fondatrice sugli effetti che l'esistenza di queste particolari organizzazioni hanno sulle popolazioni stesse e il DNA chiaramente è il tramite il tramite in cui si verifica questa coincidenza questa correlazione fra cultura e biologia allora il genoma è una roba grande è uno spazio molto grande se lo immaginate come una specie di biblioteca ci sono alcuni volumi particolarmente interessanti in realtà sono tutti interessanti però insomma per il nostro obiettivo particolarmente interessanti uno in particolare è questo qua e parleremo di questo fondamentalmente oggi il cromosoma Y che ha la caratteristica di essere trasmesso ereditariamente di generazione in generazione secondo la linea paterna quindi ci siamo focalizzati sul cromosoma Y uno per motivi anche tecnici perché è più facile lavorarci e due chiaramente per il discorso delle partecipanze della trasmissione in eredità in linea paterna e quindi c'è il match perfetto siamo partiti da San Giovanni in Persiceto ne parlamo qui in questa sede già un paio d'anni fa che è una delle partecipanze più grandi nei dintorni di Bologna di cui ad un certo punto io scopro l'esistenza non ne sapevo nulla e quindi ci siamo lanciati chiaramente incuriositi della presenza di questa particolare organizzazione e abbiamo messo in piedi uno studio che metteva a confronto partecipanti con non partecipanti una specie di caso controllo come fanno i medici e contemporaneamente ci siamo andati a spulciare i registri della partecipanza stessa che consentivano la ricostruzione di diverse genealogie famiglie di partecipanti incrociando insieme tutte queste informazioni vengono fuori alcuni risultati imprevisti io direi diamo un'occhiata soltanto al cromosoma Y qui si vede abbastanza chiaramente questi sono i partecipanti e questi sono i non partecipanti che c'è una differenza macroscopica in questo caso è la presenza di questa fetta blu che corrisponde ad una particolare variante di cromosoma Y che si chiama IL-22 in questo caso se si va a dare un'occhiata alla distribuzione per quel che se ne sa dalla letteratura di questa particolare linea si vede che ha un pattern abbastanza particolare con alte frequenze insomma in nord Europa Scandinavia e decrescente andando verso sud in Italia è relativamente raro ce n'è pochissimo a San Giovanni per Siceto nella partecipanza è il 16% quindi è una cosa abbastanza macroscopica partendo da queste informazioni facendo fuoco su questo particolare progruppo c'è anche la possibilità con varie trappole bioinformatiche statistiche di tirar fuori delle datazioni vengono fuori delle datazioni anche queste interessanti un limite superiore di circa 1400 anni fa cioè andiamo proprio a cascare nel periodo delle migrazioni medievali le cosiddette invasioni barbariche e un limite inferiore di circa 700 anni fa quindi a metà del 300 una di quelle cesure storiche pesanti col passaggio della peste eccetera eccetera dimezzamenti delle popolazioni in certi casi e quindi qui in questo caso siamo stati fortunati era venuta fuori l'ipotesi che nel gruppo di fondatori della partecipanza di San Giovanni per Siceto ci fosse almeno un piccolo gruppo di personaggi di origine probabilmente germanica o goti o più probabilmente longobardi anche per tutta una serie di evidenze archeologiche che ci sono sul territorio e tutto quadrava molto bene a quel punto ci siamo riproposti di replicare lo studio con altre realtà dello stesso tipo e adesso quelli che vi mostro proprio oggi in anteprima sono gli ultimi risultati che abbiamo e riguardano quattro comunità che sono Nonantola Sant'Agata Bolognese Grignano Polesine e Massenzatica con uno schema simile quindi partecipanti contro non partecipanti questa è un po' la distribuzione geografica di queste comunità quindi con due partecipanze che sono nell'immediato circondario fra Modena e Bologna Nonantola e Sant'Agata Bolognese e poi andiamo verso la zona del Polesine con Grignano Polesine provincia di Rovigo e Massenzatica che siamo invece nella provincia di Ferrara Allora la prima cosa che Emeer sa e che salta abbastanza all'occhio è la seguente se diamo un'occhiata alla diversità genetica in ognuna di queste popolazioni si vede bene che se questo è il livello dei non compartecipi non partecipanti tutte le comunità partecipanti qui sono due diversi indicatori ma insomma il messaggio è lo stesso tutte le comunità partecipanti mostrano evidentemente dei segni di riduzione della diversità più o meno marcati minimali a Massenzatica e a Nonantola più notevoli più massicci a Grignano e a Sant'Agata e possibili spiegazioni possono essere tanti ma la più probabile è proprio un effetto anche della stessa chiusura di queste comunità che si è portata avanti nel corso dei secoli allora questo grafico quello che è un'analisi multivariata standard che si fa spesso e volentieri mette insieme una serie di comunità italiane in questo caso di provincie italiane quindi popolazioni normali aperte con queste comunità che abbiamo studiato si vede che tutte le comunità in questione questi sono questo diciamo è Nonantola non partecipanti Grignano non partecipanti Mesola che è il confronto con Massenzatica si vede che in tutti i casi le nostre comunità sfuggono praticamente assumono posizioni periferiche rispetto a quelle che ci si sarebbe attesi sulla base della geografia da questo motivo ognuno ha la sua storia perché ognuno va nella sua direzione allora le spiegazioni sono fondamentalmente due uno il gruppo originario quindi come era fatto il gruppo originario e poi la sua vicenda storica perché chiaramente le popolazioni in ogni caso cambiano nel tempo più piccole una comunità più è probabile che si verifichino fenomeni detti di deriva fenomeni di deriva che portano a una trasformazione a un'accelerata trasformazione col passare del tempo quindi alcune delle caratteristiche che erano presenti nella popolazione originaria magari spariscono ad altre vengono amplificate quindi ognuna di queste alla fine prende la sua direzione ed amplifica un pezzo del messaggio originario allora vediamo alcuni casi specifici qui abbiamo Nonantola e Sant'Agata Bolognese quindi le due partecipanze fra Modena e Bologna e questo è il controllo controllo lo stesso per entrambe perché sono molto vicine fra di loro e come si vede ognuna delle due si differenzia per cose diverse Nonantola si differenzia per guardando le cose più grandi per questa linea che chiamiamo R1BL2 Sant'Agata Bolognese per un'altra linea che chiamiamo R1BU152 non sono in questo caso linee stranissime come quella di di San Giovanni Persiceto che abbiamo visto prima sono linee ben diffuse in Italia che però qui si trovano a frequenze decisamente superiori alla media da dove vengono in questo caso? messaggio completamente diverso la linea R1B in generale è una delle linee più diffuse in Europa e secondo le interpretazioni più recenti data circa 4.000 anni fa è stata messa più volte in relazione c'è stata lunga discussione in realtà ma insomma taglio corto è stata messa in relazione con la cosiddetta cultura di Alstat che è uno dei precursori tra le altre cose di quelli che in seguito vengono chiamati Celti ed è probabile che la loro espansione in Italia cioè l'arrivo la diffusione di questa linea in Italia abbia almeno in parte a che fare con le migrazioni dei Celti ma in parte perché la diffusione è molto più grande di quel che ci si aspetterebbe soltanto in base ai Celti quindi il fenomeno probabilmente è anche un po' più antico dei Celti qui andiamo a dare un'occhiata massensatica confrontato con Mesola quindi con una comunità presunta aperta risultato abbastanza interessante anche in questo caso a maggior ragione perché qui non c'è la chiusura delle partecipanze qui c'è soltanto la regola dell'incolato non c'è la discendenza in linea paterna quindi non ci si aspettava una differenza così marcata e invece esiste anche in questo caso ed è questa fetta verde che si chiama R1BL51 quindi andiamo a cadere fondamentalmente nello stesso calderone che abbiamo visto prima quindi quello tardeta del bronzo protostoria epoca protostorica con l'aggiunta del fatto che questo particolare haplogruppo è piuttosto raro in Italia è piuttosto raro in generale ma è piuttosto raro anche in Italia 2-3% normalmente mentre qui è bello presente e bello amplificato bisognerà un po' vedere meglio di che cosa si tratta quali sono le possibili spiegazioni rapidissimamente passo a Grignano confrontato col suo controllo qui il risultato è qualcosa di molto simile invece a quello che succede a San Giovanni in Persiceto cioè la linea caratteristica è una linea abbastanza esotica diciamo così KM9 ma ci sono degli ottimi indizi per ritenere che in realtà si tratti di un amplogruppo T il quale amplogruppo T è fatto in questo modo qua quindi come vedete ha dei picchi di frequenza nel corno d'Africa in India è presente a bassa frequenza un po' dappertutto in Europa a bassissima frequenza quindi insomma è un oggetto un po' oscuro ancora su cui c'è da lavorarci un pochetto alcuni le associano ai movimenti neolitici però insomma per adesso diciamo che alziamo le mani e provvederemo a dare un'occhiata un po' più a fondo però su questo amplogruppo presunto T abbiamo fatto già una prima prova di datazione e anche in questo caso il limite inferiore il limite superiore ancora non l'abbiamo fatto ma il limite inferiore va a cadere esattamente insomma nel quattordicesimo secolo nello stesso periodo in cui cade il limite inferiore anche di San Giovanni in Persiceto quindi insomma la stessa stessa traccia demografica conclusioni conclusioni tutte le comunità partecipanti quindi riassumiamo un attimo manifestano una certa tendenza alla riduzione della variabilità genetica con fenomeni più o meno accentuati di deriva in particolare Sant'Agata e Grignano che sono presumibilmente quelle col più piccolo numero col più piccolo effettivo di popolazione fenomeno comunque presente anche a massensatica nonostante non ci sia la regola della discendenza paterna e in ogni caso coerente con la maggior chiusura dei gruppi legati ai beni comuni naturalmente faccio notare che stiamo parlando soltanto della linea paterna ok quindi se esisteva una chiusura in linea paterna non necessariamente lo esisteva anche dal punto di vista materno quindi non è che si tratti di un isolato totale si tratta di un isolato parziale in una certa direzione ben precisa tutte le popolazioni considerate presentano chiare tracce degli stessi eventi di popolamento quindi come vedete in questo caso si va soprattutto a parare verso il bronzo verso la fine del bronzo a parte San Giovanni in Persiceto non sono visibili tracce genetiche chiaramente legate a movimenti medievali in questo caso ciò non impedisce che ce ne siano ma che siano imboscati nascosti difficili da vedere o magari spariti proprio per il fenomeno di deriva tutte le comunità partecipanti fra virgolette presentano aplogruppi distintivi o addirittura esclusivi li abbiamo visti uno ad uno da ora in poi vedremo di indagare per cercare di capire dettagli insomma un po' come abbiamo fatto per San Giovanni in Persiceto su queste particolari linee e già c'è questo fatto di TL131 a Grignano che riconduce alla stessa finestra temporale già vista per San Giovanni in Persiceto quindi già c'è una coincidenza interessante dal punto di vista demografico per ora mi fermo qui grazie forse l'avevo evocato il dottor Boattin perché a parte che è una delle mie materie preferite ma credo che la prossima volta dovrà tenere una relazione e gli diamo pure il compito perché quello che lui ha rilevato sui scelti dovrebbe corrispondere alle tracce che nelle valli ci sono per i reti perché i reti erano i reti è un gruppo però molti delle popolazioni che venivano individuate come reti erano state respinte dall'invasione celtica erano gli etruschi in pratica a parte mandati a sud nelle zone mie però lì è zona di transito non credo che si troverà molto ma invece probabilmente nelle Alpi troverete dei segnali che indicheranno una migrazione base coeva e questo quindi alla prossima volta deve completare il lavoro questo è poco ma sicuro e comunque grazie perché è interessantissima prego grazie parlo io a nome anche del dottor Federico Bigaran poi se il dottor Federico Bigaran vuole aggiungere qualcosa perché ovviamente io sono un'antropologa e lui è il direttore dell'ufficio per le produzioni biologiche quindi la parte agronomica è legata anche come vedete in questo caso alla specifica della vacca di razza rendena ecco io vi do degli accenni perché non sono esperta allora noi abbiamo ideato come dire questo studio pilota perché ci farebbe piacere che altri poi prendano la nostra stessa idea e possano utilizzarla nei propri territori in questo caso noi abbiamo preso ad esempio la Val Rendena e dopo spieghiamo per quale motivo l'areale geografico dove si colloca la Val Rendena per chi non è trentino ovviamente una premessa brevissima è appunto in una zona la provincia autonoma di Trento che ha una lunga tradizione nella gestione comune dei pascoli montani difatti dai dati anche che ci sono stati forniti dalla provincia il territorio in gestione delle ASUC è circa il 54% la cosa che ci interessa che ci ha interessato è vedere dove i territori a gestione appunto ASUC si sovrappongono in alcuni casi ai territori invece che sono stati definiti come aree protette e quindi qui abbiamo inserito sia i parchi nazionali sia quelli regionali ma anche le aree Natura 2000 o anche le aree UNESCO che comunque anche loro sono sottoposte a un certo interesse come dire per il patrimonio l'altra cosa interessante è che noi abbiamo sono nel posto è una cosa retorica abbiamo le amministrazioni collettive delle risorse strategiche abbiamo una documentazione storica appunto in Trentino molto molto ampia che ci permette di dare un peso a queste appunto gestioni collettive in particolare quello che interessava a noi erano questi pascoli e dall'altro lato sappiamo che in Trentino c'è comunque c'è stata un'attenzione alla conservazione del paesaggio culturale della montagna ovvero a tutto ciò che riguarda anche questo sapere pratico tradizionale che è quello che interessa un po' di più a me come antropologa la domanda che ci siamo fatti è questa è possibile trovare un nesso tra la gestione tradizionale dei pascoli collettivi quindi come è stata gestita da sempre da parte appunto delle proprietà collettive la monticazione di speciali razze autoctone di bovini e qui vedete la nostra emblema la nostra mucca e la conservazione della biodiversità ambientale in queste aree protette quindi se è vero che la gestione tradizionale della montagna fatta da sempre da appunto da chi partecipa alle ASU che prima appunto alla proprietà collettiva sia stata una cosa virtuosa per quanto riguarda la conservazione della biodiversità che in questo momento ci interessa e ci interessa anche soprattutto per il futuro anche per la salute generale sia delle Alpi ma anche del pianeta stesso la risposta è stata data attraverso due metodologie ovviamente la metodologia della ricerca storico-archivistica che vi ho mostrato prima perché abbiamo un patrimonio immenso in questa provincia ma dall'altro lato e qui subentro io in aiuto appunto del dottor Bigaran la ricerca antropologico-ecologica in montagna quella appunto che era stata ideata da Cole Wolf e poi portata avanti da Viazzo Sibilla ovvero l'accostamento dell'indagine antropologica con però la ricerca storica ed archivio e quindi solo in questo modo noi possiamo provare a dare una risposta alla nostra domanda il case study è la Varrendena qui un paio di immagini tra l'altro sono malghe che sono di ASUC in questo caso siamo andati a prendere malghe che sono di proprietà delle ASUC cosa c'è in Varrendena? c'è la presenza di pascoli a gestione collettiva che sono anche dei pascoli molto belli la presenza di aree protette abbiamo il parco naturale ad Amello Brenta la presenza di questa razza autoctona è un po' speciale eccola qua la vacca Rendena le caratteristiche di questa vacca magari vi lascio anche l'immagine che è più bella di questo animale è che ne elenchiamo come dire quelle fondamentali che è una una mucca che ha una resistenza enorme quindi resiste anche in quota che è capace di stare fuori stalla tantissimo rispetto ad altri tipi di razze di mucca che quindi è adattabilissima a questi pascoli tradizionali che ancora oggi in qualche parte ci sono dall'altro lato il dottor Bigam mi riferiva anche quando abbiamo fatto gli incontri a una variabilità genetica altissima rispetto a pur avendo pochi capi adesso ve la spiego a mio modo pur avendo pochi capi come lo capita io 6.000 circa rispetto ad esempio alla frisona che ha milioni di capi la frisona ha meno variabilità genetica della nostra vacca Rendena e questo la rende un elemento che secondo noi può essere chiave per capire anche la conservazione della biodiversità nel territorio cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto due serie di interviste di cui appunto do proprio brevissimi dati poi la lettura del testo che consegneremo sarà molto più esaustiva perché metteremo anche degli stralci di queste interviste abbiamo intervistato questi allevatori che hanno queste mucche e che vanno sui pascoli di proprietà collettiva quindi che prendono in affitto che salgono su questi tipi di pascoli abbiamo parlato con anche neoagricoltori perché ecco qui la cosa interessante che ci piaceva portare qua per lo sguardo al futuro giovani che hanno deciso di ritornare a fare allevamento e in questo caso anche agricoltura e poi abbiamo incominciato a intervistare anche dei partecipanti cioè chi fa parte delle ASUC allora gli allevatori ci dicono che quest'animale ovviamente è eccezionale per quanto riguarda la presenza su questi tipi di pascoli che il pascolo che loro hanno trovato dopo come dire secoli di gestione in un certo modo è adattabilissimo per questa mucca e che quindi come dire c'è un equilibrio perfetto tra la mucca e il pascolo da parte loro cosa fanno continuano a gestire il pascolo secondo la tradizione quindi le ASUC sono felici in qualche modo sono contenti di dare a questi allevatori che sono più interessati a mantenere un certo tipo di sfruttamento appunto di questa risorsa perché seguono i dettami che la ASUC gli suggerisce i giovani ci dicono che è Rende vi ho messo l'immagine sotto proprio di un giovane che è il ragazzo sopra che vedete Manuel Cosi che dice che lui ha messo a Madonna di Campiglio quindi un posto estremamente super turistico ha messo il distributore del suo latte crudo biologico di Vacca Rendena quindi lui dice appena uno arriva lì vicino al palaghiaccio vede la faccia della mia vacca e questa cosa per loro è importante perché tra l'altro è una vacca che è legata identitariamente a questo territorio l'altra cosa interessante e questo lo dico perché siamo qua con voi che forse potete capirmi di più cosa ci dice un appartenente a una ASUC ci dice che per loro l'essere appartenente a una ASUC è qualcosa di fondamentale per la loro vita questa signora è una signora di mezza età e mi ha detto io l'ho intervistata poco prima che ci fossero le elezioni non mi ho messo la foto per tutela della sua privacy visto che sto dicendo una cosa che ha detto lei e lei mi ha detto io sono più interessata alle votazioni della mia ASUC rispetto alle votazioni provinciali che c'erano tipo la settimana dopo fa quelle manco vado a votare non me ne frega niente l'altra cosa che mi dice quindi interessa a me come antropologa che è una cosa significativa mi dice io quando devo scegliere chi votare per mettere a capo appunto della mia ASUC scelgo secondo la teoria del galantuomo nel senso che deve essere una persona rispettabile della comunità perché io gli affido tutto mi ha detto tutto perché il patrimonio collettivo è mio ma è di tutti quindi io devo scegliere le persone giuste più che chi se ne frega come dire mi ha detto chi va a governare la provincia di Trento a me interessa chi governa la mia ASUC ecco questa cosa a me come antropologa ha interessato moltissimo per capire il legame che c'è tra le persone quindi la loro come dire la collettività e la risorsa le risorse che ci sono e poi ovviamente abbiamo intervistato le istituzioni perché il nostro interesse era vedere anche come se c'era dialogo e qui abbiamo ecco qui abbiamo trovato la problematica che ci piacerebbe aiutare a risolvere allora i funzionari del parco Normello Brenta che ci hanno ospitato molto gentilmente loro ci hanno fornito tutti i dati possibili che era poi quello che ci serviva ovviamente i dati scientifici sulla biodiversità i pascoli il terreno il territorio eccetera però ovviamente ci dicono c'è una specie di problema nel dialogare tutti insieme il progetto e quindi posso passare alla parte come dire delle conclusioni preliminari e il proseguo potrebbe essere come dire il nostro obiettivo principale è cercare di far sedere ad un tavolo insieme appunto le ASUC che sono molto volenterose di poter essere come dire interpellate il parco ad Amello Brenta che ha comunque tutta una sua come dire storia anche burocratica gli allevatori ovviamente e anche comunque chi è interessato ad aiutare culturalmente la promozione e quindi mi riferisco un po' anche alle ultime parole del professor Mocarelli quindi uno sguardo al futuro anche lì sono molto interessati a capire come possono riversare anche turisticamente questo tipo di patrimonio quindi non lasciarlo bloccato o comunque sconosciuto ecco tutti loro far risiedere assieme magari con l'aiuto in questo caso forse l'antropologia può dare un aiuto dal punto di vista della mediazione perché facciamo questo di mestiere un po' i mediatori e vedere se riusciamo in qualche modo a creare una specie di non è un disciplinare una specie di buona pratica che sia riconosciuta dal parco che è quella che già fanno le ASUC che sia presa obbligatoriamente dagli allevatori perché ovviamente il fine ultimo che può avere in questo caso il dottor Bigaran come provincia e l'ufficio è il mantenimento di questa biodiversità che è secondo noi la cosa più importante che dobbiamo lasciare ai nostri eredi quindi al futuro e le ASUC fino ad ora lo hanno fatto e allora io vi saluto con questa nostra amica mi permetto di dire fate attenzione ai livelli di legittimazione è certo perché è qui il punto cruciale della disquisizione disquisizione bella con le vacche perché ecco tenete presente che su questa materia l'orso Bertoldo del parco dell'Abruzzo ne ha fatto le spese mi fermo qui ecco solo la precisazione se dimenticate i livelli di legittimazione voi siete persi io credo che il senso io credo però che il senso che ci hanno voluto trasmettere gli ultimi due interventi che come al solito hai scelto con la tua carattere di talent scout è quello della biodiversità cioè ci stanno parlando di specie che si specificano scusate il voluto bisticcio di parole attraverso l'interazione con l'ambiente e con l'uomo infatti da questo punto di vista antropologia biodiversità segnalano quei profili di modificazione genetica che non sono dovuti alla chimica cioè al succedersi della successione ma a quelli che derivano dalla interazione con l'ambiente e quindi vanno dal fisico al culturale ma esterno dalla trasmissione genetica in sé e questo credo che sia il messaggio più importante della conservazione delle tradizioni nella continuità cioè effettivamente se io avessi avuto gli esempi che hanno fatto loro sarei stato molto più efficace nel messaggio che volevo dare sui limiti della stessa disponibilità di questi patrimoni e di queste gestioni da parte dei protagonisti e io credo no ma il messaggio ecco ha bisogno di esempi e migliori esempi di quelli che ci hanno fatto era difficile pensarli e noi ve li consegniamo grazie e dovete continuare soprattutto e adesso Fiore Fontana Rosa c'è? sì anche questo tema caldo il ruolo della donna negli assetti fondiari collettivi dalla separazione all'integrazione grazie presidente io in questa ricerca ho cercato di rispondere ad una domanda se gli assetti fondiari collettivi sono maschili maschilisti e sessisti a livello globale i diritti di proprietà e l'accesso alla terra e dalle aree forestali si sente? si caratterizzano per una disparità di genere questo ovviamente dipende dal particolare atteggiarsi delle regole sia legali ma soprattutto consuetudinarie ho cercato quindi di fare una comparazione tra i paesi africani e asiatici da un lato e dall'altro lato con le nostre proprietà collettive com'è la situazione in Africa? beh in Africa dobbiamo dire che le donne contribuiscono a circa il 60-80% del lavoro per la produzione di culture alimentari e tuttavia l'accesso alla terra è difficoltoso in effetti di tutti i problemi che affliggono le donne africane impegnate in agricoltura il problema dell'accesso e del possesso della terra è di gran lunga il più importante per quanto riguarda invece la situazione forestale è la stessa cosa pensate che nel continente africano le popolazioni rurali considerano le foreste e le sue risorse ovviamente come una forma di ricchezza cioè una fonte di sostentamento pensiamo al cibo legna materiali da costruzione e tuttavia c'è un pregiudizio nei confronti delle donne i vari incarichi infatti nella gestione delle foreste sono attribuite soltanto ai maschi le donne non hanno accesso libero e indipendente alla maggior parte dei prodotti forestali che si trovano nelle terre collettive fatta eccezione per alcuni prodotti forestali non legnosi anche in Asi la stessa cosa in alcuni stati asiatici penso all'India la questione delle differenze di genere nell'utilizzo delle risorse comuni ha riguardato soprattutto le foreste tribali qui le donne non sono coinvolte nella rappresentanza politica non hanno uno status indipendente non possono partecipare all'assunzione delle decisioni concernenti gli usi della terra le donne non possono rivendicare non hanno rivendicazioni sul fondo nei riguardi del panchayat o il sabba sarebbe il consiglio del villaggio o nei riguardi del comitato di villaggio come si spiegano le differenze di genere in materia di accesso alla proprietà fondiaria beh innanzitutto in Africa le donne e gli uomini hanno posizioni differenziate all'interno del sistema di parentela che è uno dei mezzi principali attraverso cui si accede alla terra questo vale per esempio per i paesi a sud del Sahara penso al Ghana in cui la terra è posseduta sostanzialmente dagli uomini e le donne accedono al suolo attraverso i loro mariti quali sono le cause dell'esclusione familiare tre spiegazioni cerco di essere rapido la prima è il sistema patrilineare cioè una delle cause delle differenze di genere che si riscontrano riguardo all'accesso alle terre detenute dalla comunità familiare tribale o locale è stata individuata nel sistema patrilineare questo riguarda l'Uganda soprattutto la parte settentrionale riguarda il Ghana riguarda la Nigeria insomma una vasta letteratura mostra come le culture patriarcali impediscono l'accesso delle donne alla terra a causa delle loro inclinazioni alla disuguaglianza di genere il patriarcato è stato condannato e considerato come ostacolo all'emancipazione delle donne nei paesi in via di sviluppo ma non è solo il patriarcato altre due spiegazioni sono state proposte una riguarda la concezione del diritto di proprietà cioè bisogna separare l'accesso alla terra e la proprietà della terra in realtà in Africa il concetto di proprietà non era diffuso solo recentemente successivamente in Africa si è diffuso il concetto di proprietà e lo abbiamo esportato noi il concetto di proprietà in Africa segue alle conquiste prima da parte degli arabi e poi da parte degli europei e quindi sostanzialmente la nozione di possedere la terra è un sottoprodotto del progetto di conquiste africane nel momento in cui non c'è il concetto di proprietà non c'è esclusione quando invece nasce questo concetto di proprietà anche in Africa la donna viene esclusa dalla proprietà della terra infatti in molti paesi africani la donna può accedere alla terra ma non può essere proprietaria solo il marito o l'uomo può esserne proprietario terza spiegazione è la cultura indigena cioè molte ricerche individuano nella cultura indigena la causa delle disuguaglianze di genere questo vale in molti paesi africani ma anche in alcuni paesi dell'America Latina quali Argentina o Honduras chiaramente il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha posto il problema sottolineato come in realtà i tentativi di far valere i diritti delle donne mediante le quote di riserva potremmo chiamarle quote rosa si sono trasformati in violenti conflitti con i tradizionali corpi tribali dominati dagli uomini i quali considerano tali iniziative come una violazione un sacrilegio diremmo delle leggi consuetudinarie un'altra cosa è la legge versus consuetudine è vero che la consuetudine è sfavorevole all'accesso delle donne nei riguardi al fondo ma in realtà anche la legge anche il legislatore si mette di traverso velocemente in alcuni stati africani le differenze di genere sono addirittura statuite a livello legislativo penso al Botswana qui c'è un atto una legge il Tribal Land Act del 68 statuiva che i diritti di titoli sull'area tribale erano affidati agli uomini della tribù ora il problema è capire cosa si intende per uomini si intendono i maschi o le femmine questa è la domanda e esso veniva declinato in senso patriarcale in virtù di una concezione che considerava la terra del Botswana come appartenente agli uomini uomini inteso come maschi che ovviamente non è la stessa cosa perché come dice qualcuno di maschi ce ne sono tanti di uomini ce ne sono pochi forse questa è la differenza ma in realtà oltre al Tribal Land Act anche il successivo atto legislativo il Tribal Grazing Land Policy era insensibile e questo atto nel 1993 c'è stata una modifica sono state sostituite le parole tribesmen con cittadino cittadini ma in realtà anche qui i diritti delle donne non sono stati precisati qual è la situazione nelle proprietà collettive italiane molto velocemente io penso alla regola di San Vito di Cadore il cui articolo il cui statuto recita hanno titolo a far parte della regola i discendenti legittimi in linea paterna delle antiche famiglie delle regole anche le partecipanze prevedono una regola analoga in particolar modo lo statuto di Villa Fontana il quale chiaramente dice sono partecipanti le persone di sesso maschile o femminile discendenti in linea retta maschile dalle famiglie originarie e quindi in questo caso le donne e gli uomini hanno diritto a far parte della collettività ma la trasmissione del diritto avviene solo per via paterna e non per via materna interessante la partecipanza di non antola perché l'articolo 1 prevede una trasmissione del diritto di godimento per via mascolina e non maschile quando una parola dice più di tante cose altre comunità invece non prevedono differenze in materia penso alle regole d'ampezzo il cui laudo dice statuisce in conformità delle antiche consuetudini il titolo di regoliere si assume per eredità dal padre o dalla madre anche le università agrarie utilizzano un approccio gender neutral cioè neutro dal punto di vista del genere penso all'università di Valmontone in cui si dice hanno diritto di uso civico le persone che siano sui iuris maschi e femmine poi il problema è capire cosa si intende per maschi e femmine in periodo di transensualismo e di transgenderismo dove dal sesso stiamo passando al genere conclusioni i modelli di genere descritti possono essere spiegati soltanto in base alla diversa posizione che uomini e donne rivestero nella società a causa delle norme sociali esistenti in questo contesto le differenze sociali uomo-donna sono difficili da eliminare o da attenuare nel lungo periodo perché si tratta di norme di genere e le norme di genere o riconosciute sono considerate come statiche piuttosto che come costrutti sociali dinamici nonostante le donne in molte parti dell'Africa soprattutto quella meridionale siano state responsabili della coltivazione del terreno non hanno mai posseduto la terra le donne potevano accedere alla terra solo attraverso i mariti oppure attraverso i figli oppure attraverso i parenti maschi paterni come sottolinea interessante questa frase del consiglio nazionale delle donne dell'esoto è un piccolo paese a sud dell'Africa dice le donne sono sempre figlie di altre persone le donne prima sono figlie dei loro padri poi sono figlie dei loro mariti e poi sono figlie dei loro figli anche alcune forme di proprietà collettive italiane in un certo senso prevedono un favore nei riguardi dei maschi non tanto per quanto concerne la possibilità di acquisire il diritto a far parte della comunità tuttavia riguarda la possibilità di trasmettere tale diritto che in alcuni casi come abbiamo visto è possibile soltanto per via patrilineare e non per via matrilineare grazie certo è un'indagine molto complessa questa perché sconta le diacronie anche delle varie regolazioni ricordiamoci che fino a dopo la seconda guerra mondiale le donne non votavano votarono per il referendum quindi evidentemente questi gli statuti di quel periodo sicuramente non facevano deroga alla regola generale la corte costituzionale per la vicenda del maso chiuso in un primo momento la discriminazione uomo donna ebbe a battezzarla come costituzionalmente coerente in ragione delle caratteristiche economiche delle alpi e successivamente invece la ritenuta costituzionalmente illegittima anche alla luce dell'evoluzione dei costumi delle potenzialità e quant'altro grazie ed ora diamo la parola a Silvia Scozzafava se presente che è un altro sì altro titolo immaginifico gli indigeni fra noi le antiche proprietà collettive italiane come sistemi socio-ecologici integrati nel mondo moderno una breve presentazione ma non so se riesco a caricarla sul computer perché ce l'ho qui su quindi o la uso come guida per semplicemente per vederla un attimo che visualizzo buonasera io sono un'ecologa diciamo nelle carte del convegno risulto ancora affiliata al parco nazionale Gran Sasso Laga in realtà quell'esperienza si è conclusa con Agosto attualmente sono rientrata nel mio ruolo di funzionario tecnico presso la regione Lazio le aree protette della regione Lazio tuttavia sono qui a titolo personale e non in rappresentanza dell'ente per cui lavoro io mi sono interessata al rapporto ecologico fra comunità umana e ambiente praticamente dai tempi della tesi di laurea che ho svolto sul tema degli effetti ecologici dell'abbandono delle pratiche agricole effetti quindi sulle specie di interesse conservazionistico legate a tali ecosistemi e l'ho poi proseguita sia diciamo personalmente attraverso la partecipazione a seminari oppure la lettura di letteratura scientifica rilevante poi con il mio dottorato di ricerca fatto presso l'Università di Urbino proprio sull'ecologia umana in cui ho affrontato dal punto di vista proprio della teoria ecologica questo nodo che è stato affrontato in molti modi da discipline diverse dall'ecologia quindi da discipline antropologiche delle scienze sociali umane ma molto meno dal punto di vista strettamente biologico ed ecologico e quindi ho diciamo mi sono concessa un titolo se vogliamo ad effetto non rendendomi conto che fra l'altro questo tema in realtà è ben vivo penso in questo in questo tipo di comunità scientifica cioè il fatto di essere consapevoli che le collettività costituiscono una popolazione indigena e volevo tuttavia insomma far presente l'analisi di questa struttura dal punto di vista dell'ecologia già dal mio dottorato ho affrontato alla radice l'idea di cosa è naturale e cosa non è naturale perché nel momento in cui noi diciamo che i sistemi seminaturali agricoli legati alle proprietà collettive ospitano della biodiversità nel termine stesso seminaturale racchiudiamo il concetto che è come se a questi sistemi mancasse qualcosa a causa della presenza dell'uomo questo è un passaggio diciamo così arbitrario nel senso non è detto da nessuna parte che la specie umana debba essere considerata estranea al mondo naturale fino a prova contraria noi siamo animali con un DNA e con una nostra naturalità che poi questo poi nel tempo abbia portato a conflittualità danni ecologici eccetera è un altro paio di maniche però fondamentalmente non sta scritto da nessuna parte che è un ecosistema sul quale una comunità umana esercita un uso sia meno naturale sicuramente a dinamiche diverse a struttura diversa ma non è che sia meno naturale quindi innanzitutto domandarsi seriamente scientificamente cosa vogliamo dire noi per naturale perché laddove abbiamo una storia antica di coesistenza fra comunità umana e ambiente c'è semplicemente una specie assieme ad altre che fa quello che fanno tutte le altre specie e l'uomo non è l'unica specie a determinare modificazioni ecologiche i castori modificano l'ambiente in maniera molto profonda i coralli che non hanno neanche un cervello senza avere nessuna intenzionalità costruiscono dal nulla un ecosistema quindi l'idea che l'uomo sia l'unico che modifica l'ambiente a suo piacimento non è fondata nella realtà ci piace tanto considerarci diversi ma in realtà neanche da questo punto di vista siamo realmente alieni quindi faremo bene a considerare diciamo l'uomo come una delle specie ecologicamente presente e facente parte della dinamica di un ecosistema quindi in maniera neutra poi andiamo a vedere se va bene o va male quello che fa però non è che a monte presupponiamo che ci sia qualcosa di male nella presenza della specie umana di fatto molti ecosistemi sono stati influenzati così profondamente dalla presenza continuativa della specie umana che la biodiversità che si ospitano le specie che lì sono presenti sono in qualche modo legate alla prosecuzione di queste pratiche e alla struttura e al funzionamento degli ecosistemi che ne derivano di conseguenza per conservare queste specie non è sufficiente semplicemente astenerci dal cioè una conservazione esclusivamente vincolistica che è l'approccio più comunemente noto diffuso cioè per preservare la specie X impediamo di fare questo questo e quest'altro che la danneggia quando dobbiamo andare a preservare una specie che dipende dalla continuazione di determinate specifiche pratiche agrosilvopastorali dobbiamo fare sì che qualcosa continui è qualcosa che non è facilmente imponibile è la cosa più ovvia che si sente dire dappertutto bisogna fare in modo che queste pratiche continuino è più facile a dirsi che a farsi e sicuramente non lo si può fare con imposizioni dall'alto è un qualcosa che va in qualche modo favorito e a tal proposito ritengo che sia interessante come paradigma sia analitico che operativo quello che si sta affermando negli ultimi anni che è quello dei servizi ecosistemici il concetto di servizio ecosistemico cioè l'idea che un certo ecosistema ci fornisce dei servizi delle funzionalità dei beni anche immateriali di cui noi godiamo direttamente o indirettamente e in virtù del fatto che ne godiamo dobbiamo in qualche modo ricompensare chi questi sistemi provvede e in alcuni casi cioè nel caso dei sistemi seminaturali cioè del paesaggio agrosilvo-pastorale chi li provvede sono le persone che mantengono quei paesaggi in uso il fatto di remunerare la fruizione o comunque sì la fruizione il godimento di servizi materiali a chi se ne fa carico della loro produzione e mantenimento consente di bilanciare consentirebbe quantomeno se questo sistema fosse istituzionalizzato consentirebbe di bilanciare di dare un riconoscimento anche economico una legittimazione economica a chi compie un'attività che abbiamo visto per lo più continua per ragioni identitarie tradizionali sono ragioni che faticano a reggere il passo nel mondo moderno con tutte le altre pressioni che insistono sul territorio e questo paradigma ci aiuta anche perché aiuta a identificare questa tensione che è emersa anche in altri interventi fra le istanze delle comunità locali che hanno un determinato tipo di rapporto con il territorio e le istanze delle comunità sovralocali quindi regionali nazionali addirittura internazionali laddove c'è la presenza di una specie di interesse conservazionistico internazionale c'è una comunità internazionale che ha un interesse verso quel tipo di ambiente e il fatto di riconoscere questa diversità di rapporto fra comunità locali e sovralocali consente anche di gestire di analizzare e di gestire queste differenti istanze il concetto è fondamentalmente sempre che chi fruisce di un servizio deve remunerare chi quel servizio remunerare o comunque compensare chi quel servizio lo fornisce riguardo alla legge 168 è interessante insomma fare delle considerazioni perché nell'articolo 2 per esempio dove si elencano le finalità insomma delle proprietà collettive perdono se faccio una citazione magari imprecisa però c'è questo dualismo fra interessi delle comunità locali e interessi sovralocali nel momento in cui si parla di elementi fondamentali per la vita delle collettività locali oppure la fonte di risorse rinnovabili per gli eventi diritto si pone l'accento sull'utilizzo delle risorse da parte della comunità locale quindi un rapporto fondamentalmente di fruizione diretta mentre laddove si parla di strumenti di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale o componenti stabili del sistema ambientale o strutture copaesistiche del poesaggio nazionale agro silvopastorale nazionale si pone l'enfasi sulle istanze che provengono da una comunità non locale non legata direttamente e nella frase che fa riferimento al paesaggio agro silvopastorale locale è lì che c'è la tensione perché il valore di questo paesaggio è riconosciuto a livello nazionale ma chi quel paesaggio lo costruisce e lo mantiene e lo fornisce alla collettività nazionale è la comunità locale quindi in quella frase c'è racchiusa lì la tensione fra necessità di livello locale e necessità di livello nazionale e la necessità di trovare una conciliazione fra queste differenti stanze ed è un altro concetto molto importante la legge 168 è proprio quello già richiamato da più relatori della comproprietà intergenerazionale che è un principio fondamentale dello sviluppo sostenibile del concetto stesso di sviluppo sostenibile e quindi è estremamente importante che questo concetto sia stato messo diciamo nero su bianco la responsabilità di passare intatto un patrimonio e quindi di evitare azioni che deteriorano il patrimonio allora che cosa come possiamo vedere se consideriamo i domini collettivi come sistemi socio-ecologici in pratica riconosciamo che le dinamiche sociali quindi l'esistenza stessa delle proprietà collettive le consuetudini che le hanno generate abbiamo visto che patrimonio ricco culturale sociale ci sia dietro queste dinamiche sociali generano un sistema ecologico e al tempo stesso il sistema ecologico nel senso di struttura dell'ambiente montano piuttosto che di pianura eccetera crea delle opportunità e determina un'organizzazione sociale intorno a quel sistema ecologico è veramente un unico indissolubile in cui le dinamiche sociali sono intessute insieme alle dinamiche ecologiche e si mantengono reciprocamente diciamo in piedi l'una con l'altra in questo mi fa piacere fare scenno a una particolare branca ecologica che appunto ho applicato nel mio dottorato che è l'ecosemiotica molto spesso in ecologia si tiene poco conto del concetto di informazione ma in realtà ogni organismo vivente è un principio generale valido per ogni organismo vivente agisce nell'ambiente in base alle proprie capacità cognitive ossia alle informazioni che è in grado di acquisire e processare rispetto all'ambiente che lo circonda questo vale per ogni animale per ogni essere vivente e vale anche per l'uomo di conseguenza le collettività secondo questa concettualizzazione noi evidenziamo che le collettività possono gestire il patrimonio in maniera appropriata nella misura in cui acquisiscono informazioni cioè dati e il problema della carenza di dati è stato richiamato competenze nella interpretazione di questi dati bisogna sapere cosa farci e che lettura ne diamo del dato e la capacità di azione la capacità di poter agire in maniera efficace cosa che sicuramente la legge 168 finalmente dà in maniera più chiara però è importante la componente informativa cioè la cultura tradizionale è una capacità cognitiva di leggere delle risorse di saperle sfruttare se noi prendiamo un milanese e lo mettiamo a pascolare la vacca rendena fa secca la mandria nel giro di una stagione penso perché non è capace non ha le competenze e parimenti ci sono altre competenze di per esempio capacità di lettura dei cambiamenti climatici delle opportunità e dei limiti che ci sono sì chiudo che è necessario integrare e di conseguenza la proposta che volevo lanciare in questa sede era quella di provare a istituire una collettività culturale nel senso intorno alle cognizioni alle informazioni alle conoscenze che ruotano intorno alla gestione dei beni collettivi e delle competenze anche ecologiche che sono necessarie per agire in maniera consapevole e quindi aggiungere alla proprietà collettiva del bene materiale fisico anche una proprietà collettiva dei dati delle conoscenze dei rilevamenti degli articoli scientifici che vengono proposti perché se riusciamo a condividere anche le conoscenze le cognizioni sicuramente questo avrà un risvolto positivo sulla capacità di trasmettere al meglio questo bene alle generazioni successive mi fermo grazie grazie dottoressa cedo subito la parola all'ultimo intervento che il professor Simone Rosati che pur essendo italianissimo insegna nella zona di Murcia e ci parlerà della gestione collettiva delle risorse naturali della regione spagnola appunto di Murcia prego grazie la proprietà collettiva quale spazio identitario viene comunemente identificata con la terra la terra per lo storico del diritto rappresenta l'osservatorio privilegiato della propria indagine che appunto è volta a ricercare quel rapporto prima di tutto antropologico e poi certamente anche giuridico tra la terra e la comunità comunità che sulla terra ha depositato certamente la propria storia le proprie tradizioni pensiamo per un attimo a tutto quel patrimonio archeologico che molte associazioni agrarie custodiscono per ragioni di vicinanza geografica penso alle università agrarie del Lazio i cui boschi le cui colline custodiscono e svelano al visitatore le meraviglie dell'antichissima civiltà etrusca ora accogliendo l'invito dell'odierna riunione scientifica desidero rappresentare un modello virtuoso di appropriazione collettiva presente in Spagna presente nella regione spagnola di Murcia nel sud della Spagna che tra l'altro è stato oggetto di uno studio da parte di una brillantissima economista vincitrice del premio Nobel che è Elinor Ostrom la differenza essenziale rispetto agli assetti fondieri collettivi italiani o meglio il punto di vista è l'osservatorio principale per lo studioso delle proprietà collettive in Spagna a Murcia in questo caso non è la terra in questo caso infatti il bene collettivo è unicamente l'acqua elemento che a prima vista potrebbe sembrare inconsistente per sua natura o comunque non idoneo a rappresentare quell'identità collettiva che rappresenta la cifra tipica delle terre civiche tuttavia in questa regione spagnola nella regione di Murcia caratterizzata da terreni prevalentemente aridi e veramente inospitali la protagonista è appunto l'acqua e nello specifico il suo fiume chiamato fiume Segura con tutto un sistema particolarissimo di canalizzazioni che è composto da dighe canali acquedotti sotterranei e acquedotti all'aperto e allora tutta la storia di questa regione spagnola la sua stessa conformazione urbanistica agricola le sue tradizioni religiose civili le sue consedutini e quindi anche il suo diritto ruotano attorno all'acqua ruotano attorno al fiume Segura e al suo particolarissimo sistema di irrigazione che prende il nome di regadio e che nel complesso è noto come sistema della huerta di Murcia huerta appunto che identifica gli orti che solo grazie a questo sistema collettivo di gestione delle acque riescono a garantire la possibilità di trarre dei frutti da un terreno estremamente arido in ospitale e l'importanza dell'acqua a Murcia è talmente percepita dalla collettività che si parla appunto di cultura dell'acqua di una cultura dell'acqua proprio con lo scopo di identificare un patrimonio che è certamente fisico ma è anche immateriale un patrimonio che dal punto di vista giuridico si è tradotto in una moltitudine di norme anzitutto constitutinarie ma poi anche scritte che si sono cristallizzate nel corso dei secoli infatti a partire dalla fondazione araba della città nell'ottavo secolo sino ad oggi la huerta di Murcia è stata oggetto di una prolificissima autoregolamentazione giuridica che trova la sua massima espressione nel conseco de hombres buenos sarebbe un consiglio letteralmente sarebbe il consiglio degli uomini savi consiglio che ha lo scopo precipico di garantire l'equa distribuzione della risorsa collettiva acqua tra la comunità e gli utenti che si servono appunto delle strutture principalmente rigue e la cosa interessante è che questo consiglio non si limita a regolamentare l'uso e la ripartizione dell'acqua tra gli utenti ma essendo appunto la collettività la voce diretta del bene collettivo questo consiglio ha un vero e proprio potere giurisdizionale ha quindi un potere di derimere tutte le controversie che possono sorgere in tale materia esiste quindi una normativa dell'acqua a Murcia con una vera e propria giustizia che viene resa da giudici dell'acqua eletti direttamente dagli utenti e questo sistema si caratterizza per essere un sistema giurisdizionale estremamente semplice emesso in forma orale gratuito e finalizzato appunto a prevenire soprattutto situazioni di abuso nella gestione della risorsa collettiva questo tribunale dell'acqua oggi ancora pienamente funzionante ed esistente gode potremmo dire del sigillo di garanzia della storia è infatti un sistema di composizione delle controversie che con i necessari adattamenti di tempo e spazio ha saputo esistere sin dal basso medioevo sino ai nostri giorni e tutte le sue massime tutte le sue decisioni raccolte diligentemente nel corso dei secoli formano quello che viene definito come il libro dell'acqua libro dell'acqua che appunto è la fonte legislativa per eccellenza del sistema della Uerta a Murcia nel 2009 questo tribunale di giustizia della Uerta di Murcia erede quindi di questo consiglio degli uomini savi medievali è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità e su questa notizia chiudo il mio breve intervento lasciando spero la suggestione offerta da questo modello collettivo a Murcia un modello che come le proprietà collettive italiane gode del sigillo del tempo e rappresenta certamente la voce di una comunità determinata con tutto il suo patrimonio di valori di consuetudini certamente consapevole della propria storia e protagonista non solo nel sistema di autoregolamentazione ma anche addirittura di composizione delle controversie e allora grazie alla rivoluzione scientifica promossa dalla legge 168 del 2017 le comunità titolari di diritti civici hanno l'opportunità dopo secoli di persecuzioni di scrivere anche loro come nel caso di Murcia per il libro delle acque il proprio libro dei beni collettivi o potremmo dire in termini più giuridici il proprio statuto in questa delicatissima fase di redazione dei futuri statuti che per esempio sta investendo le università agrarie del Lazio il confronto con altre realtà ed esperienze come quelle di Murcia è veramente fondamentale in questo senso l'odierno convegno trentino è stata un'occasione preziosa di dialogo e reciproco arricchimento grazie grazie caro Rosazzi abbiamo un ambasciatore a Murcia che ci sostiene e quindi complimenti per il tuo lavoro in quella regione e i suggerimenti che ci dai visto che siamo sull'acqua mi permetto di stuzzicare una riflessione perché quando consideriamo nel patrimonio naturale l'acqua e lo consideriamo intergenerazionale noi infatti stiamo attenti perché consegniamo alla generazione futura l'acqua a venire quindi occorre qui fare attenzione mi permetto di dire che per noi non usiamo solo l'acqua usiamo tutto l'apparato di distribuzione dell'acqua quindi la strumentazione fa parte dell'elemento che noi distribuiamo e poi con un problema delicatissimo che non abbiamo confesso prendo la responsabilità di non voluto affrontare questo problema però lo suggerisci e credo che possiamo individuare una forma di collaborazione su un tema che è cruciale mi piace che non ci sia più mocarelli in questo momento in Lombardia che forse l'hai studiato da Milano quando facevi ma è un tema scottante su cui non impegno da questo tavolo il centro salvo quelle due precisazioni che ho fatto inizialmente stiamo attenti che noi se pensiamo acqua come patrimonio naturale intergenerazionale entriamo in una materia dei mutamenti climatici quindi ci inseriamo in quel filone quello che noi dobbiamo dire l'elemento che ci garantisce intanto l'acqua giacente l'acqua nella terra che sono già componenti del sistema idrografico ecco questa parte qui rientra già nel dominio dei domini collettivi detto questo il mio compito sarà velocissimo è quello di ringraziare tutti consentitemi di ringraziare chi ha presieduto con accettando la raccomandazione con polso fermo e flessibile la gestione dei tempi eccetera ma soprattutto nella gestione dei tempi aver fornito l'interpretazione autentica della legge 168 168 ma lei è già avanti va bene faremo tesoro ecco io invito i tre relatori i tre presidenti a mettere per iscritto breve sintetico qui le affermazioni fatte perché sono i binari che condurranno l'attività del centro e convocati a discutere la materia un ringraziamento ovviamente ai relatori anche lì che hanno arricchito rispandendo la nostra visione a livello internazionale e ai loro aiutanti i traduttori che mi si dice non hanno tradito il pensiero dei relatori ai numerosi comunicatori con i loro contributi sostanziosi e provocatori a loro volta non li abbiamo pubblicati tutti ma quelli che non sono stati presentati qui sono già in rete perché il testo è stato presentato in misura definitiva quindi ciascuno lo può leggere consentitemi ancora poi di rivolgere un ringraziamento a tutti i partecipanti ancora quest'ora qui tutti presenti agli addetti alla segreteria e agli addetti ai servizi informatici che ci hanno favorito eccetera vengo alla conclusione che voi aspettate il centro chiude il centro chiude la fase della che abbiamo mandato nel progetto come progetto a suo tempo decolonizzare la proprietà collettiva credo che il lavoro svolto in questi anni ci consenta oggi di dire quel progetto è chiuso quindi si avvia una fase nuova di riflessione perché la proprietà collettiva nel 2018 è in una situazione diversa già dalla legge 168 quindi occorrono inventare strumenti nuovi per questo tipo di soggetto economico sociale ambientale eccetera quindi noi diciamo spostiamo l'attenzione su oggi direi su un altro versante che cosa però ci resta su questo nuovo versante la costante resistenziale della proprietà collettiva perché è questa che è sopravvissuta a tutti i dispetti a tutti i sopravusi e a tutti gli svantaggi che vengono creati io mi sono permesso di commentare brevemente un bellissimo intervento sull'uso del territorio con le risorse locali ma se non si è presente il livello di legittimazione degli interventi la proprietà collettiva resta nuovamente perdente lo cito tranquillamente qui a Trento il caso perché se gli enti di protezione della natura se i parchi diventano enti commerciali la proprietà collettiva è morta i parchi avrebbero dovuto essere inestati come supporto alla proprietà collettiva perché è la proprietà collettiva che fa il parco e non viceversa quindi qui è un punto su cui la legge 168 mette un punto fermo sui diritti prima ma anche sui doveri non scinde i due elementi tipici della proprietà collettiva diritti uguali per tutti diritti senza differenze però i bisogni sono diversi e quindi è qui che l'autonomia deve giocare con una fantasia che dimentichi ciò che era la situazione prima del 20 novembre 2017 ecco lo dico al presidente della consulta perché questo è il tema nuovo dico però un'altra cosa questa costante resistenziale dà ragione di guardare con rinnovato ottimismo al futuro io faccio un'osservazione da questo tavolo qui se avete notato nei 24 anni che stiamo ragionando su questa materia oggi abbiamo una partecipazione di presentatore di contributi essenzialmente giovane questo è il vero risultato che il centro ha ottenuto abbiamo costituito con la volontà di tanti tre centri abbiamo cercato di costituire coordinamenti l'associazionismo delle proprietà collettive a livello regionale per dar forza alla consulta nazionale quindi questo rispetto del decentramento sta avendo un risultato insperato rispetto a qualche anno fa questo dicevo mi lascia un grande ottimismo che io trasmetto volentieri anche a tutti gli altri collaboratori eccetera che noi abbiamo un obiettivo ormai obbligato nella visione di aver imparato tante cose da quello che succede nella panoramica che qui c'è stato presentato di perseguire non per nazionalismo non per più eccetera motivi strani qualsiasi ma io ritengo che ci sia una via italiana della proprietà collettiva quindi il prossimo convegno parte con questa prospettiva noi dobbiamo individuare l'originalità perché questa è la competenza del centro studi sulla proprietà collettiva di Trento che riguarda essenzialmente la proprietà collettiva italiana ecco quindi il panorama è importante ma noi dobbiamo avere i piedi per terra nel nostro paese ripeto un giudizio che non è mio ma lo faccio mio ve lo comunico con grande piacere ieri è stata presentata una relazione egregia stuzzicante del professor Ost ma nella parte finale il centro ha posto una riflessione sul più piccolo dominio collettivo della provincia di Trento ecco quindi il quadro orizzonte deve essere orizzonte molto ampio ma non dobbiamo dimenticare di avere i piedi per terra grazie a tutti e un arrivederci grazie a tutti grazie a tutti